ecco visto che si è acceso banner con scritto alla riunione diretta streaming ok quindi possiamo iniziare ok si accetta bene bene allora io direi a questo punto che la parte tecnica è tutto a posto direi di iniziare ora ricordo a tutti coloro che si collegano di tenere spento il microfono noi come organizzatori possiamo spengere il microfono ma diciamo siamo già a circa 40 partecipanti quindi non è facile tenere tutti sotto controllo quindi prego veramente tutti coloro che si collegano di spengere il microfono in questa almeno in questa prima parte poi ci sarà la possibilità di un po di discussione e quindi a quel momento diciamo sarà possibile intervenire allora siamo arrivati alla all'evento annuale ormai consueto che i tre parti regionali organizzano in collaborazione con la regione per un piccolo una discussione ogni anno su un tema che riguarda le aree protette e diciamo questi eventi hanno successo nel senso che registriamo una sempre maggiore partecipazione da parte del pubblico quest'anno abbiamo avuto un po di problemi ci scusiamo nella pubblicizzazione dell'evento per questioni organizzative diciamo interne ma siamo riusciti comunque lo stesso a ma scusate ancora ecco siamo riusciti comunque lo stesso a organizzare ringrazio per questo tutti e tre i direttori e i presidenti ovviamente ma insomma i direttori dei dei tre parchi regionali che appunto si sono operati per l'organizzazione di questo di questo evento il tema di quest'anno avete visto è i parchi al di là del limite quindi noi diciamo discuteremo ragioneremo attraverso interventi che avete visto nel nel programma che non vi sto a rileggere ragioneremo del dell'importanza della presenza di un parco ma non solo di un parco di un'area protetta anche di una riserva sul territorio quindi l'importanza non solo all'interno dell'area protetta per il territorio che sta all'interno dei propri confini ma anche per il territorio che sta fuori dai propri confini quindi all'ambito territoriale di riferimento fuori dal parco questo risponde un po' a un'evoluzione della della visione di un'area protetta nel tempo da diciamo partiva con la 394 con un nucleo isolato e invece mano a mano nel tempo si questa visione si è evoluta a area protetta come nodo di una rete che sta in relazione col territorio circostante questo ci porterà a indagare eh i legami diciamo così tra le questioni ambientali e le discipline sociali eh ed economiche nell'ambito di un concetto eh un concetto più ampio che è il concetto poi dello sviluppo sostenibile che ci porta a eh veder eh conciliare gli aspetti ambientali gli aspetti sociali e gli aspetti economici quindi ehm la eh diciamo la discussione eh cercherà di eh di eh approfondire gli aspetti appunto eh quindi cercherà di superare questa visione dell'area protetta come area da preservare rispetto a un territorio esterno genericamente definito ma come area che è inserita a pieno titolo all'interno eh di un territorio mio ampio eh d'altra parte tanto che ragioniamo anche in termini di effetti della presenza di un'area protetta sul territorio quindi possiamo ragione possiamo analizzare effetti diretti di da servizi ecosistemici servizi ecosistemici sono effetti diretti della presenza dell'area oppure ci sono tanti progetti di cooperazione tra i parchi e i territori esterni ai parchi anche questi hanno effetti diretti sul sul territorio ci sono poi anche però effetti indiretti forse meno visivi meno eh come dire computabili ma che comunque eh esistono come per esempio il fatto che il parco l'area protetta rappresenta un esempio di eh buone pratiche che possono essere esportate fuori dal territorio non solo di buone pratiche ma di gestione eh improntata a una a una a una tutela che può essere esportata anche fuori dal territorio poi pensiamo per esempio al volano turistico che può rappresentare un'area protetta eh per l'intero territorio e poi il tema della qualità della vita che abbiamo scoperto e abbiamo diciamo riscoperto con con il periodo del del covid quindi l'importanza dell'area protetta per la qualità della vita del cittadino che vive anche fuori dal parco non solo che vive all'interno del parco e diciamo concludo questa breve introduzione con uno slogan che ora va abbastanza di moda quindi le aree protette come sistemi socio ecologici il concetto del socio ecologico è abbastanza moderno ma insomma interessante spero che avremo avremo modo poi con gli interventi di eh di svilupparlo un po' di più io quindi inizierei subito dal 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 primo intervento e lascerei la parola a Fabrizio Cinquini l'ha detto Cinquini eh che ci farà il suo diciamo intervento introduttivo e poi per poi passare alle esperienze vere e proprie che sono state ehm che sono state eh portate avanti a partire dal parco nazionale e ringrazio sempre la presenza di Gian Piero che ci accompagna eh in tutti questi nostri eventi e che diciamo ci dà una prospettiva a livello nazionale che diciamo ci aiuta moltissimo a ehm come dire aprirlo sguardo verso eh anche al di fuori della Toscana perché Gian Piero ha un'esperienza anche eh in Italia e poi comunque anche su fronti diciamo più più ampi rispetto a quelli regionali a cui noi siamo abituati a a ragionare su cui sui quali sono abituati a ragionare quindi Fabrizio non so se ci sei eh buonasera buongiorno buongiorno chiedevo se mi potete dare la condivisione dello schermo perché sono disabilitato alla condivisione delle della presentazione Tiziana posso farlo io lo devo fare io o lo fai tu lo fai tu lo fai tu allora penso che lo possiamo fare entrambi provo a farlo io ecco ho messo la condivisione dello schermo perfetto grazie eh ditemi se vedete la presentazione per favore sì la vediamo perfetto allora buongiorno a tutti intanto ringrazio per l'invito eh a questo a questo incontro a questa a questo momento di riflessione per me devo dire anche un piacere un onore poter fare questa relazione introduttiva e devo dire che mi è servito anche un po' a ripensare a diciamo al percorso che i parchi regionali negli anni hanno costruito diciamo sulla pianificazione sul ruolo pensando ai primi tempi in cui con Roberto Gambino ci entravamo nella pianificazione del primo parco regionale che era della Puana a distanza di vent'anni tanta acqua tanto tanto materiale tanto pensiero è passato diciamo da quelle prime esperienze e oggi in effetti può essere anche un modo con cui ripensiamo al ruolo dei parchi al di là effettivamente delle rigide diciamo impostazioni che ci impongono le pianificazioni diciamo strette eh di natura eh urbanistica e territoriale ehm come giustamente ha introdotto Gilda Ruberti in realtà appunto i parchi sono come dire un un elemento di un sistema molto più complesso con cui le regioni lo stato e comunque diciamo le organizzazioni chiamate al governo del territorio tentano e provano a tutelare il territorio a garantirne diciamo la sua conservazione nel caso della Toscana questa lunga riflessione è approdata poi con una riforma legislativa che è la legge regionale 30 che è la cornice entro cui noi oggi ci muoviamo in cui si collocano sia i parchi regionali ma più in generale il sistema delle aree protette eh di riferimento sia per la regione e sia per diciamo per la gestione eh della biodiversità. Come sapete la legge fa un salto di paradigma quindi non non inquadra solo il sistema delle aree protette ma più in generale quello che è denominato il patrimonio naturalistico ambientale regionale e lo inquadra appunto dentro il principio generale c'è ricordato dello sviluppo sostenibile tant'è che nella definizione iniziale delle finalità della legge regionale il riconoscimento delle regioni di questo patrimonio il mantenimento la sua riproduzione la sua sostenibilità l'uso e la durabilità nel tempo è la principio base diciamo per il perseguimento delle finalità della legge. Vedete che quindi la legge va ben oltre il tema della conservazione e la tutela che era la base delle della legge quadro nazionale e quindi inquadra un nuovo modo una nuova modalità di governance del sistema delle aree protette ma più in generale della biodiversità. Tant'è che il patrimonio naturalistico ambientale ora molte cose le sto dicendo a un uditorio che sa molto meglio di me quello che stiamo dicendo ma ci serve anche per capire proprio questa relazione fra interno e esterno fra area protetta e territori non protetti ci aiuta a capire appunto che il sistema della conservazione non si focalizza solo sui parchi e sulle riserve ma appunto ha poi tutta una serie di altri elementi riconoscitivi e formali che sono i siti della Rete Natura 2000, le proposte che le regioni svolgono per poter incrementare il sistema della rete, le aree di collegamento ecologico e funzionale che nella nostra regione poi trovano la loro collocazione negli strumenti di pianificazione territoriale lo vedremo tra poco e poi appunto il progetto di rete ecologica regionale che sta dentro uno strumento di pianificazione territoriale tradizionale e le zone umide di importanza regionale. La regione peraltro poi non rinuncia ad aggiungere ulteriori contenuti al riconoscimento della biodiversità alla sostutela tant'è che rientrano negli elementi riconosciuti patrimonio naturalistico ambientale anche gli alberi monumentali, gli abitati, le specie di interesse generale, le specie di flore e fauna e i giustiti di interesse regionale. Vedete che quindi il tema della conservazione a tutela e poi quindi della valorizzazione non riguarda solo più le aree protette ma è appunto un sistema molto più articolato e complesso in cui la biodiversità è diffusa nei territori, nei paesaggi e negli ambienti regionali. Elemento fondamentale poi della legge è che riconosce diciamo al patrimonio territoriale è la capacità di condizionare, di dare indicazioni a tutti gli strumenti della pianificazione soprattutto quelli regionali e concorre nel suo complesso proprio a essere riferimento per la programmazione regionale. Diventa quindi come dire un faro, un punto di riferimento al tema della biodiversità e del patrimonio che dovrebbe guidare le politiche regionali in tutta l'attività di programmazione. Ovviamente il sistema regionale ha una sua oggi cristallizzazione di fatta di parchi nazionali, riserve statali, parchi regionali, un parco provinciale che ancora come dire è un residuo della vecchia legislazione regionale che intende diciamo di essere inquadrato nella nuova visione e costruisce diciamo già una struttura, un'armatura importantissima delle politiche di tutela e conservazione ma che come vedete comunque copre una parte parziale ovviamente marginale, seppur importante e rilevante del territorio regionale. A questa ovviamente si aggiunge quella di livello comunitario che vedete peraltro come sappiamo si sovrappone e si interseca e tende diciamo a espandere le politiche di tutela e conservazione e quindi anche di valorizzazione a un territorio più ampio e che inevitabilmente interseca le aree protette e ne coinvolge. Non a caso i siti da ritenatura 2000 che intersecano i parchi e le aree protette sono poi gestiti in termini di strumenti di gestione o di organizzazione dagli stessi antiparco e solo quelli esterni sono gestiti direttamente dalla regione. La programmazione e il traguardo con cui diciamo poi il sistema delle aree protette ma soprattutto appunto le finalità di gestione del patrimonio naturalistico ambientale regionale vengono traguardate nella regione attraverso due fondamentali strumenti di programmazione regionale che sono il programma regionale di sviluppo recentemente aggiornato anzi rinnovato completamente in un traguardo che guarda il 2025 con una risoluzione recente e invece un po' meno recente piano ambientale energetico regionale in attesa che questo venga sostituito col nuovo piano che è in corso di elaborazione a cui inevitabilmente si aggiunge quelle scelte strategiche che ha fatto la regione degli anni nel tenere legata alla pianificazione territoriale a quella ambientale e paesaggistica il piano paesaggistico regionale approvato nel 2015. Questi tre strumenti legano insieme e traguardano le strategie che noi dovremmo osservare e perseguire ai fini di garantire quei traguardi che la legge ci indica. A questi vanno ovviamente collegati poi gli strumenti attuativi della legge regionale che come ben sapete molto meglio di me sono i documenti di economia e finanza regionale che tutti gli anni la regione approva e che quindi delineano gli indirizzi generali con cui la regione promuove la propria azione politico-amministrativa anche in materia di patrimonio naturalistico ambientale e quindi di aree protette e le note di aggiornamento correlate che evidentemente poi individuano le azioni e i progetti specifici. Su questo poi si innesca e si incardina ovviamente nel settore specifico delle aree protette il documento operativo annuale che detta proprio e individua proprio e delinea le azioni, i progetti, le modalità con cui questi vengono attuati e anche le modalità con cui la cooperazione istituzionale e sociale, Gilda lo ricordava, non è solo un'azione di natura istituzionale quella che dà garanzia di sussistenza dei parchi e delle aree protette ma proprio anche la regione traguarda questa possibilità e anche la necessità che sia il mondo sociale quello associativo che si fa gioco e diventa la squadra diciamo nelle politiche eh di gestione delle aree delle aree protette. Va peraltro aggiunto e questo è il motivo e anche il cardine diciamo della riflessione di oggi che se noi eh traguardiamo diciamo i valori naturalistici ambientali della regione eh in realtà è vero che in molti in molta in molta densità si concentrano nelle aree già naturali protette già riconosciute quindi parchi nazionali, parchi regionali, le riserve ma uno studio neanche molto recente ma ancora attualissimo eh condotto da dalla dalla regione toscana ci ricorda che buona parte degli elementi di all'elevata concentrazione di abita e di specie di interesse conservazionistico e comunque di emergenze naturalistiche non risiedono necessariamente all'interno delle aree protette. c'è una diffusa presenza in tutto il territorio della Toscana di valori, emergenze naturalistiche, qualità eh ambientali che sono esterne alle aree protette e quindi la necessità diciamo di traguardare nelle politiche di conservazione e di valorizzazione della biodiversità non solo diciamo la gestione delle aree protette ma più in generale tutto il territorio toscano nella sua articolata complessità e che ovviamente quindi interessa i territori rurali, quelli forestali, diciamo i territori che stanno ai margini o nei contorni delle aree protette e che entrano in qualche maniera a contatto con gli ambiti più insediati, quelli più a massa, più alta antropizzazione che quindi dialogano un rapporto di osmosi tra dimensione diciamo della conservazione tipica delle aree protette e invece la dimensione più territoriale e paesaggistica dell'intera regione. Il programma regionale di sviluppo da questo punto di vista, il nuovo programma regionale di sviluppo ci dà, ci indica una direzione che va proprio nel traguardo che Gilda ci ha indicato e che è tratteggiato in un obiettivo specifico del programma regionale di sviluppo che è l'obiettivo 5, rendere resilienti comunità e territori e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e valorizzando i servizi ecosistemici. Da questo punto di vista la regione indica come strategia ovviamente quella di garantire la conservazione e la difesa della biodiversità puntando all'ampiamento della rete dei siti Natura 2000 e delle aree protette e potenziando le attività dei parchi. Quindi vedete individua nei parchi come dire un nodo essenziale e non rinunciabile della sua azione di conservazione della biodiversità ma dall'alto traguardando la possibilità di estensione delle proprie politiche proprio sul tema dei siti Natura 2000 e del sistema più complessivo delle aree protette. In questo caso vedete indica anche una strada di rafforzamento della conservazione e valorizzazione della biodiversità proprio nei territori rurali, in quelli agrari, cioè quelli che tendenzialmente e non necessariamente sono interni alle aree protette. Da questo punto di vista peraltro indica anche come prospettiva anche a favore diciamo di garantire una riduzione della vulnerabilità dei territori a favore della loro resilienza la valorizzazione dei beni e dei servizi ecosistemici che come sappiamo, Gilda ce l'ha ricordato, evidentemente sono erogati sicuramente dal sistema delle aree protette ma che non necessariamente possono essere poi individuati e traguardati anche nei territori esterni e traguardando in questo caso proprio vedete le aree rurali e montane, soprattutto quelle con elementi di marginalità, oggi le chiameremmo aree interne e a cui ovviamente va dato impulso per rafforzare la coesione sociale e diventare quindi in questo quadro anche un asse strategico che nella sua marginalità trova con la forza di garantire quei servizi che in altri territori evidentemente non possono essere espressi, quelli a massima antropizzazione o diffusione insediativa. Dall'altro occorre la regione, indica come come necessità quella di traguardare le relazioni di livello europeo e internazionale, quindi di collocarsi in una dimensione non localistica, guardare al locale ma pensando al globale e quindi diventare e essere diciamo attore di una regia che garantisca diciamo una strutturazione tale da intercettare diciamo risorse e capacità propulsive che non necessariamente dipendono dalla dimensione locale e quindi da questo punto di vista serve per contro una cooperazione anche decentrata, cioè essere sempre in contatto con la dimensione locale che può garantire appunto questo sistema di relazioni tra la dimensione globale e quella locale. La regione da questo punto di vista è un nodo centrale perché è il punto di congiunzione diciamo fra questa dimensione locale e la possibilità di entrare in un circuito in una dimensione di livello transnazionale europeo. E tutto questo ovviamente traguardando lo sviluppo sostenibile locale che alla base come vedete sia delle politiche della regionale 30 ma in generale ormai è pervasivo di tutto il contenuto della legislazione regionale, la stessa legge sul governo del territorio apre i propri principi generali attraverso lo sviluppo sostenibile. Quindi quali sono i temi rilevanti che ci vengono consegnati dal nuovo programma regionale di sviluppo? L'ampliamento della rete, quindi l'obiettivo diciamo attraverso un ragionamento sulla rete Natura 2000 e sul sistema delle aree protette di perseguire nuovi obiettivi di estensione dell'attuale consistenza del sistema delle aree protette, il potenziamento specifico delle attività non tanto della consistenza ma delle modalità con cui i parchi si presentano su uno scenario identico strategico e quindi la capacità di essere motore propulsivo dello sviluppo sostenibile e poi la conservazione della biodiversità agraria, cioè traguardare anche i territori esterni come potenziali territori entro cui, come dire, provare a sperimentare nuove politiche di conservazione della biodiversità non necessariamente ancorate ai principi di tutela conservazione legati strettamente alle aree protette. Quali sono gli strumenti e elementi grimaldelli con cui questo può essere conseguito e che è definito nell'obiettivo strategico regionale? La valorizzazione dei beni e servizi ecosistemici che in questo caso le aree protette erogano inevitabilmente per la loro intrinseca e le loro intrinseche caratteristiche e per il fatto che formalmente sono riconosciute sia in termini istituzionali che in termini di qualità dei territori che vengono protetti, traguardare la coesione sociale e quindi anche l'intresa istituzionale che gestisce e che dovrebbe essere a capo della governanza di questi territori come un'azione strategica di livello regionale in cui la regione quindi è cabina di regia di questa coesione, pensare in termini di reticolarità delle relazioni che quindi inevitabilmente non sono istituzionali, tutta la legge 30 è permeata di questa possibilità e capacità che la regione attraverso accordi, convenzioni e modalità di natura negoziale possa estendere le modalità di gestione della biodiversità e della sua conservazione non solo attraverso l'azione istituzionale ma coinvolgendo quello che è la comunità nel suo complesso regionale attraverso l'associazionismo, le forme di cooperazione trans istituzionali eccetera e poi quindi anche una cooperazione che ha più livelli ma soprattutto che guarda al decentramento cioè ai luoghi e alle comunità locali come gli attori locali che mettono in opera le politiche e le strategie regionali attraverso quindi uno sviluppo che è sì sostenibile ma è locale che quindi trova poi la sua ricaduta sui territori che ne esprimono la rilevanza. Da questo punto di vista l'approvazione poi del piano paesaggistico regionale apre diciamo ancora di più a una prospettiva che non traguarda solo al sistema delle aree protette ma proprio alla gestione del territorio regionale e la sua dimensione più globale. In particolare chi conosce questo strumento sa che fra i contenuti essenziali della parte statutaria il progetto di rete ecologica ambientale regionale è un contenuto essenziale anche fondante del piano paesaggistico e quindi guarda il territorio indipendentemente diciamo dalla sua e dal suo riconoscimento formale e quindi legge diciamo la biodiversità e i valori naturalistici nella sua come dire interpretazione multidisciplinare. Da questo punto di vista quindi le aree protette sono solo lo sfondo entro cui la regione come persegue un progetto di rete ecologica che guarda i valori indipendentemente dalla loro collocazione. Da questo punto di vista quindi la rete riconosce gli elementi strutturali entro cui le aree protette sono dei nodi primari della rete ecologica e soprattutto i parchi nazionali e regionali ma a cui poi si aggiungono la rete degli agroecosistemi e il sistema un po' più complessivo degli elementi funzionali della rete ecologica che nel suo complesso garantiscono una qualità, dovrebbero garantire nel lungo periodo una qualità della biodiversità regionale più alta rispetto a quella che noi oggi osserviamo attraverso gli strumenti conoscitivi. Quindi da una parte gli ecosistemi noti, quelli forestali, quelli a più alta concentrazione di naturalità, ma dall'altra il più complessivo sistema degli agroecosistemi che offre la possibilità di riconoscere una biodiversità diffusa dell'intero territorio regionale, quindi le pianuna ruviane interne, i territori costieri, le matrici degli ecosistemi forestali e gli ambienti fluviali, i paesaggi rurali e in generale poi dentro anche il riconoscimento per stepping stone per parti degli habitat e degli ecosistemi di interesse regionale e comunitario. Ecco, la rete ecologica è questa, è la somma di tutti questi elementi e di queste relazioni e quindi una visione reticolare, scusatemi il besticcio di parole, ma che dentro le corareas poi tesse diciamo una trama molto più complessa in cui quindi il piano regionale di sviluppo ne traguarda azioni e politiche regionali. L'elemento fondante e il rapporto significativo di simbiosi fra piano regionale di sviluppo e piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico è che questi strumenti devono necessariamente, è previsto che vengono declinati in tutti gli strumenti della pianificazione territoriale, quindi non solo negli strumenti di pianificazione delle aree protette. Questo passaggio è essenziale, è rilevante perché noi oggi stiamo qui a discutere dei parchi, ma questa stessa discussione, seppur con profili, con livelli diversi, è aperta e come dire è nell'agenda di tutte le politiche degli enti locali a partire diciamo dalla pianificazione comunale, quella intercomunale e quella provinciale. In questo senso quindi le aree protette non sono più sole, le politiche dei parchi non sono come dire un luogo privilegiato, in cui si discute di biodiversità e di conservazione, ma ormai questo tema è centrale in tutte le politiche territoriali e urbanistiche anche a livello locale. Ecco e quindi infine che quale ruolo in questa nuova dimensione che lega pianificazione territoriale e pianificazione in sece economica possono assumere e acquisire i parchi. Proprio traguardando, scusatemi anche la velocità, ma mi è stato detto che dovevo essere molto breve diciamo in queste traduzioni e quindi mi perdonerete se alcuni passaggi anche logici siano stati molto essenziali, ma in base a quello che abbiamo delineato che cosa si può prefigurare per i parchi e soprattutto per i parchi regionali in funzione delle politiche sia economiche e territoriali che la regione ci ha consegnato in questi anni. Intanto il fatto che è affermato in via indiscutibile un ruolo e un rango di nodo primario alla rete ecologica ai parchi, ma soprattutto anche il riconoscimento di paesaggi d'eccellenza. Non va sottovalutata questa distinzione tra nodo primario della rete ecologica e paesaggio d'eccellenza, perché traguarda sia a politica ambientale ma anche a politiche paesaggistiche. Il paesaggio è l'intero territorio e quindi da questo punto di vista più noi teniamo insieme politica ambientale e politiche paesaggistiche più superiamo i limiti dell'area protetta, più troviamo un modo con cui i progetti, le azioni non guardano ai perimetri rigidi diciamo delle forme istitutive, ma rientrano in cooperazione con la pianificazione locale. Un secondo punto è il consolidamento di una capacità di resistenza e di risposta a resilienza alle pressioni antropiche esterne. I parchi nella loro cristallizzazione attuale, nel modo con cui poi gli strumenti di pianificazione che sono in corso di formazione la miglioreranno e l'adatteranno alle nuove esigenze, sono il nodo centrale con cui viene garantita quella conservazione della biodiversità che è concentrata nell'area protetta ma che poi si diffonde in tutto il territorio regionale. Quindi la conservazione come punto base del ruolo dei parchi nel sistema regionale ma anche la sua capacità di dimostrare le modalità con cui la conservazione diventa, può essere da riverbero diciamo per politiche anche esterne. Il riconoscimento e per le proprie capacità e caratteristiche intense di erogazione di servizi ecosistemici e quindi il fatto che i parchi da questo punto di vista possono svolgere un ruolo importante che non è solo in funzione della conservazione ma proprio in generale per la qualità della vita della comunità regionale a cui deve essere quindi riconosciuto un servizio che vale anche per i territori esterni e la potenzialità di essere nodi di una rete di azioni politiche per la valorizzazione economica e sociale. Vedremo tra poco che proprio il fatto che la legge individi contenuti dei piani integrati dei parchi che non sono solo quelli di pianificazione territoriale ma che attingono anche a dimensioni di natura programmatica diventa rilevante e strategico ai fini di una nuova forma di pianificazione e anche di programmazione delle aree protette e poi vengono di riconoscimento e direzioni di contesti territoriali ma anche amministrativi penso alle comunità di parco alla modalità con cui l'ente gestore non è un unico organo ma sono più organi che tra loro tiacono di individuare politiche di sviluppo che evidentemente richiamano alla necessità di una coesione istituzionale. I parchi senza una coesione di natura istituzionale con la propria comunità avranno sempre difficoltà diciamo a gestire le proprie politiche se non c'è una visione unitaria e coesa di dove andare e con quali modelli di sviluppo. Traguardando quindi questi ruoli e pensando quindi a che ruolo la pianificazione dei parchi può avere soprattutto in questa fase in cui si stanno discutendo i nuovi piani integrati dei parchi nella nuova modalità vengono emeggono diciamo con significatività i modi e le modalità e le tecniche con cui le politiche dei parchi entrano in gioco con un territorio più ampio. Guardando la sezione di pianificazione vi ricordo nella doppia strutturazione sia statutare che strategica questo aspetto della legge peraltro è fondante perché ci consegna un piano integrato del parco che non guarda più al limite rigido tra area contigua e area interna ma pensa al parco appunto alla dimensione di natura statutaria che legge il territorio nelle sue componenti multidisciplinare quindi non solo quelle ambientali ma anche quelle territoriali e paesaggistiche ci indica la possibilità e dà la possibilità al piano integrato di diventare strumento che è il primo luogo di conservazione valorizzazione e promozione del patrimonio turistico ambientale cioè il principio fondante iniziale della legge 30 ma anche come strumento autorevole per esempio per riconoscere le modalità con cui possono essere erogati servizi conoscitivi interpretativi e valutativi sistemi informativi territoriali il ruolo del parco come come luogo entro cui la conoscenza è autorevole e certificata e che diventa quindi strumento di una costruzione di banchi date sulla biodiversità che è di livello regionale soprattutto se messa in rete nel sistema più complessivo delle aree protette come strumento di indirizzo e di orientamento per la ricognizione dei contenuti conformativi di natura paesaggistica la conformazione paesaggistica dei strumenti di pianificazione territoriale è un tema rilevante a cui oggi tutti gli enti locali si sono chiamati a cimentarsi i parchi attraverso i piani integrati offrono strumenti conoscitivi interpretativi che possono essere di ausilio di supporto e di orientamento per la costruzione di una progettualità di livello comunale intercomunale e poi diventano anche spazi ma spazi in termini di strumentali di virtuosa esperienza e virtuosa applicazione dei principi generali anche di governo del territorio attraverso il fatto che i piani dei parchi si esprimono con una definizione con una monoclatura e con un dizionario che è pari paritetico e uguale a quello degli strumenti di pianificazione territoriale i temi del patrimonio territoriale della tutela del territorio del controllo e trasformazioni la declinazione delle invarianti strutturali diventano contenuto che può essere offerto alla pianificazione territoriale locale e quindi ne diventa anche strumento di dialogo e di valorizzazione questo per la parte territoriale più urbanistica ma poi non dimentichiamoci che la legge ci offre uno strumento di pianificazione territoriale che ha tutta la componente economica e sociale come ci ricordava Gilda Ruberti da questo punto di vista quindi il piano integrato del parco diventa anche strumento per elaborazione e la produzione di una visione strategica a livello territoriale che essendo immateriale non guarda i limiti ma diventa una visione strategica regionale traguarda una capacità di programmazione in cui parchi soprattutto se fanno rete sono i parchi della regione toscana diventano un luogo entro cui la regione sperimenta e si cimenta nelle proprie strategie di conservazione della diversità diventa anche strumento di una costruzione di una rete di progettualità e di azioni propositive di natura cooperativa perché appunto dialoga con i contesti locali con i territori con i comuni con gli enti locali che fanno parte della comunità e poi diventa anche uno spazio intelligente si direbbe smart di organizzazione sistemica di modalità di riperimento di risorse economiche finanziarie non è solo il bilancio regionale che deve sostenere le politiche dei parchi regionali e la capacità di attuazione del piano integrato del parco ma è proprio la capacità attraverso una programmazione e una visione di natura reticolare che si può traguardare in modalità con cui l'attuazione del piano non passa attraverso risorse che non sono quelle solo tradizionali e poi diventa una cornice strumentale per la messa in opera dei suoi strumenti attuativi nel momento in cui il parco non è il piano del parco non è solo più un piano territoriale è un piano urbanistico ma diventa anche strumento di programmazione la poi l'attuazione dei piani di gestione dei progetti di piasaggio di tutti gli strumenti che il piano traguarda nella sua visione strategica diventano come dire elementi che strumentalmente possono essere alla base della sua capacità di programmazione nel futuro non dimentichiamoci che poi a fronte di questa di questa capacità che gli viene assegnata la pianificazione il sistema più complessivo delle altre aree protette quindi le riserve naturali il sistema dei siti natura 2000 e il ruolo che possono assumere oggi le ampere loro rivisitazione in applicazione della legge detta diciamo ulteriori condizioni perché quel progetto di rete ecologica previsto dal pit diventi attuazione e diventi strumento operativo effettivo sul livello regionale da questo punto di vista quindi l'altro il sistema delle altre protette che vanno oltre i parchi che cosa gli viene assegnata gli strumenti di pianificazione regionale prs e ppr intanto l'affermazione e la visione di un ruolo di un rango di nodo secondario della rete ecologica come i parchi sono nodo primario sicuramente inevitabilmente tutto il sistema delle aree delle riserve dei siti natura 2000 va a intercettare il sistema e dei nodi secondari e delle stepping stone che in complessivamente vanno alla costruzione della sua rete più complessiva individua una potenzialità aggiuntiva che è quella di ripensamento delle ampi e in una visione reticolare più complessiva di livello regionale e di sua capacità anche di individuare le modalità con cui si amplica si amplia e si estende la rete natura 2000 di livello comunitario e quindi questo traguarda la possibilità di conseguire nuovi obiettivi di incremento del sistema delle aree protette così come traguardate e visti dal piano regionale sviluppo e poi le legge il sistema delle aree secondarie quali contesti territoriali in cui l'attivazione della forma di recuperazione istituzionale e sociale diventa l'ultimo traguardo il punto di arrivo di tra diciamo di tutte le politiche che sono centrali dentro i parchi regionali nazionali e che diventano dei locali nel momento in cui trovano collocazione la dimensione più marginale in sintesi quindi se guardiamo diciamo al principio alle modalità con cui noi dovremmo tutti quanti traguardare lo sviluppo e la sostenibilità non possiamo far altro che pensare come io mi piace di qui citare una vecchia riflessione fatta da roberto gambino ormai tanti anni fa tra il dialogo fra la necessità che la conservazione passi attraverso una propensione all'innovazione la conservazione senza propensione di innovazione è difficilmente perseguibile soprattutto nei territori ad elevata complessità il prs il pit ci invitano a questa a questa modalità di osservazione conservare trovando modalità innovative con cui la conservazione ci offre nuovi modelli di sviluppo in questo quadro quindi i parchi sono chiamati a fare sistema io penso che sempre di più serve una politica in cui i parchi regionali siano visti come un'entità diciamo che sono i parchi della regione è la regione che individua in questa in queste realtà i nodi focali di una politica ambientale che traguarda la visione strategica contenuta nel piano di sviluppo alle altre proprie protette quindi al sistema delle riserve del sito della rete natura 2000 è tutto più alto sistema diciamo diffuso di costituire una rete che deve essere necessariamente coesa e solidale e per questo la riforma l'ha riportata in una dimensione una gestione di livello regionale che dialogo quindi al pari con quella dei parchi regionali la la regione quindi elegge la rete a baricentro delle proprie politiche strutturali ambientali la rete fatta dai parchi dal sistema e gli enti locali sono i soggetti chiamati alla messa in opera invece della rete ecologica del pit nei territori esterni il pit e il prs ci offrono questa possibilità di come dire ragionare travalicando i limiti individuando i contenuti territoriali che non guardano i limiti ma guardano al patrimonio regionale e alla sua rete ecologica il piano regionale sviluppo ci offre la possibilità di una programmazione che parla ai contesti locali quindi agli enti locali e alla sua cooperazione ecco io penso che sia questo il nodo con cui noi oggi siamo chiamati a lavorare a ragionare diciamo sui parchi dentro una forma apparentemente istituzionale ma in cui la legge attraverso la nuova forma dei piani integrati dei parchi a una nuova forma diciamo della programmazione della rete ecologica regionale invece ci offre la possibilità di soprattutto se saremo capaci di costruire una dimensione cooperativa di livello istituzionale sociale di traguardare questa possibilità che siano poi gli strumenti comunali intercomunali e provinciali a declinarne le politiche tipo territoriali e quelle economiche attraverso diciamo una strategia di lungo periodo mi scuso sono stato così veloce ma mi è stato detto che devo stare in dieci minuti e non ci sono stato ti ringraziamo comunque perché diciamo sei riuscito a concentrare anche se un po più del termine che è stato assegnato ma di tutto un quadro che è molto complesso e anche difficile da da spiegare e quindi diciamo però è stato utile come quadro introduttivo poi alla alla discussione e quindi agli altri interventi che seguiranno quindi do subito la parola alla al direttore al presidente del parco dell'arcipelago toscano giampiero saburi e per il suo intervento e niente passiamo quindi diciamo forse un po più dalla teoria alla pratica giampiero molta pratica dicevo mi sentite bene sì perfetto e bisogna anche tutta la presentazione e poi puoi abilitarlo dovrebbe essere abilitato sì allora vedete non ancora tanto mentre giampiero eccolo eccolo arriva arriva perfetto ora vediamo magnifico bene allora tutto questa prima immagine magnifica beh per te che condividi con me certe passioni diciamo che insomma può andar bene no certo certamente e va bene allora io parlo di una cosa molto particolare e che riguarda attività del parco nazionale al cipelago toscano ma che è un problema abbastanza generale come vedete non so se tutti di voi sapete che cos'è una specie aliena probabilmente la maggior parte lo sanno che non è una specie che viene da un altro pianeta no ma è una specie che l'uomo l'ha introdotta di fuori della sua distribuzione naturale l'ha fatto volontariamente quindi importando alcuni animali o piante insomma in alcune zone volontariamente o lo ha fatto anche involontariamente il caso classico è quello dei ratti che fin dall'epoca antica sono stati distribuiti tramite le navi in quasi tutte le isole del mondo una cosa che forse tutti non sanno che le specie aliene sono la prima causa di estinzione delle specie animali e vegetali dal 1500 ad oggi secondo i dati delle UCN come vedete il 42% delle specie che si sono estinte si sono estinte per il concorso delle specie aliene più che la perdita di abita del 28% o il sovrasfruttamento delle risorse naturali che sono il 20% in questo recentissimo rapporto che ha fatto la IPBES sull'impatto delle specie aliene invasive ci dà alcuni dati molto aggiornati intanto in quel caso che vi ho fatto vedere prima era il 42% era la causa prevalente invece qui l'IPBES ci dice che per il 60% sono stata la concausa anche non prevalente delle estinzioni noti e addirittura è l'unico fattore per il 16% delle estinzioni con 1215 estinzioni locali poi c'è la parte che impatta sulle attività umane che sono 400 miliardi di euro all'anno sempre per il rapporto IPBES e con i costi che si quadrupliano ogni 10 anni tra le 37.000 specie aliene che sono state censite quindi spostate artificialmente dall'uomo volontariamente o involontariamente 3500 sono classificate specie aliene invasive cioè hanno un impatto sulla biodiversità quindi circa il 10% ad esempio il pomodoro la patata e la palma sono delle specie aliene che abbiamo nel nostro paese ma non sono invasive quindi non creano problemi l'inquiamento della diffusione delle specie aliene è praticamente stato esponenziale dall'epoca industriale in poi sempre secondo il rapporto IPBES le associazioni ambientaliste più importanti del mondo hanno questa BirdLife International che è praticamente quella a cui aderisce la nostra LIPO praticamente sin dal 2009 aveva fatto questo paper in cui diceva che una cosa importante era la veloce eradicazione delle specie aliene una volta che queste vengono accertate in una determinata zona e anche il piano scientifico per la biodiversità fatto dalla Convenzione per la diversità biologica, la SPD e con la UCN l'internazionale della natura individuava questo come un problema e diceva che la regolazione delle specie all'octone viene consigliata soprattutto nelle isole dove appunto gli impatti sulla biodiversità sono più importanti lo stesso concetto è stato confermato dal Global Biodiversity Framework del settembre 2021 dalla CBD e recepito tutte queste direttive da un regolamento dell'Unione Europea per la gestione delle specie aliene il 1143 del 2014 e dal decreto legislativo italiano del 230 del 2016 nel giusto un anno fa ci sono stati c'è stata la COP 15 a Montreal sulla biodiversità dove 193 paesi hanno approvato un documento che tra l'altro prevedeva il target 6 appunto anche qui di eradicare e controllare le specie esotiche invasive soprattutto nei siti prioritari come le isole quindi queste sono le indicazioni internazionali il Ministero dell'Ambiente nel giugno scorso ha approvato la strategia italiana per la biodiversità che prevede ancora interventi sulle specie aliene ridurre quindi del 50% il numero delle specie delle liste rosse nazionali che sono minacciate alle specie esotiche invasive cosa ha fatto il Parco Nazionale Arciperato Toscano che ovviamente è sulle isole quindi un sito prioritario dove contrastare le specie aliene la prima cosa di cui si è occupato nel corso degli anni sono state le eradicazioni del ratto che sono iniziate nel 2001 all'isolotto della scuola poi nel 2005-2006 all'isola di Giannutri nel 2012 a Montecristo e nel 2018-2021 all'isola di Pianosa l'eradicazione del ratto all'isola di Montecristo ha avuto un effetto particolarmente positivo scusate le slide in inglese ma non ho fatto un tempo a mettere in italiano diciamo ha avuto un effetto positivo era un motivo fondamentale per cui si è fatto su questa specie che era Berta minore se vedete quest'istogramma a sinistra 2010 prima delle eradicazioni il successo riproduttivo della Berta minore era del 5% cioè si involavano solo 5 pulcini di Berta minore su 100 coppie anidificanti vedete com'è schizzato in alto nel 2012 dopo l'eradicazione del ratto e si è mantenuto nel corso del ranno in pratica in 10 anni sono volati con la media del nuovo successo riproduttivo quasi 5.000 Berte contro le 248 che sarebbero volate se ci fosse stato ancora presente il ratto e questo ha fatto sì che l'isola di Monte Cristo oggi ospiti il 2% della popolazione mondiale della Berta minore ma l'effetto non è stato solo sulla Berta minore questi sono i lepidotteri, le farfalle prima del 2012 se ne conoscevano nonostante molti studi intensi sull'isola di Monte Cristo 9 dopo appunto quella data sono diventate 14 questa specie interessante perché era nota per Monte Cristo ma dal 79 non si trovava più dopo l'eradicazione del ratto nel 2014 è stata ritrovata e nel 2019 è diventata una specie comune ma anche alcune delle specie delle 5 specie nuove trovate per Monte Cristo sono molto interessanti perché sono delle specie che non hanno capacità dispersiva e quindi i ricercatori dicono che erano presenti anche prima ma erano talmente rare probabilmente condizionate alla presenza del ratto che non si trovavano e queste due specie specialmente con gli studi fatti sul DNA mitocondriale si è visto che stavano sull'isola da molto tempo ma evidentemente erano molto rare e al limite dell'estinzione dopo la rimozione del ratto altra cosa interessante è stata trovata questa lumaca anche le gastropodi sono stati molto studiati a Monte Cristo ma non era mai stata trovata che addirittura è un nuovo genere una nuova specie anche questa qui negli ultimi anni dopo l'eradicazione del ratto per l'eradicazione del ratto nel 2014 il Parco Nazionale Arcipelago Toscano è risultato finalista in una griglia di 163 progetti di conservazione della natura fatti nell'Unione Europea e appunto si è classificato finalista e quindi è arrivato tra i primi sei poi ha vinto un altro ma insomma era giudicato tra i primi sei ma il tema che vi voleva sottoporre e se ne parlavo stamattina diciamo gli aspetti sociologici dell'eradicazione perché insomma come avete visto le direttive internazionali la parte scientifica ne parla molto questo studio che è un po' datato insomma del 2010 praticamente su Conservation of Biology che è un'importante rivista scusate dice che praticamente ricorda questa pubblicazione del 2000 addirittura ancora più che dice che la probabilità del successo di un intervento di eradicazione può essere ridotta sostanzialmente se uno o poche persone si oppongono a questa eradicazione quando riguarda i mammiferi e per questo vi volevo parlare è l'ultima cosa di cui vi parlo del progetto Life Let's Go Giglio che è stato molto gettonato soprattutto per un tema che tra poco arrivo a parlare e che è un progetto Life che si basa sulla conservazione di queste cinque specie che voi vedete molto importanti il disco Glosso Sardo che è quel ranocchietto che vedete in alto a sinistra che come dice la parola è presente in Sardegna ma escludendo la Sardegna in Italia solo all'isola del Giglio e all'isola di Monte Cristo con delle popolazioni molto importanti due passeriformi la magnanina e la verla capirossa il tarantolino geco che vedete in alto a destra e poi l'imonium che è una specie vegetale endemica questo progetto si occupava di gestire quattro specie aliene la tartaruga Trachemis scripta elegans americana che è introdotta ovviamente una specie aliene invasiva il muflone lo stesso quel bellissimo fiore che si vede che è il fico degli Ottentotti o Carpobrotus una pianta sudamericana è sud-africana scusate invasiva ed il coniglio selvatico per le prime due specie in alto si prevedeva la radicazione per le due in basso si prevedeva il controllo l'impatto del Carpobrotus cioè di quel bellissimo fiore è un impatto abbastanza importante come evidenzia questo studio questi che vedete sono tre habitat prioritari dell'Unione Europea della rete Natura 2000 e vedete con tre indici diversi si è calcolato la diversità nelle zone dove non è presente il Carpobrotus dello stesso habitat e dove è presente gli istogrammi di sinistra nel corso di due anni ci mostrano la diversità dove non è presente il Carpobrotus e questi sulla destra dove è presente vedete che le differenze soprattutto per i due habitat a sinistra e a destra sono impressionanti su quanto il Carpobrotus riesce a essere invasivo e a ridurre la presenza delle specie autoctone ma anche in quello intermedio la cosa è abbastanza importante e questo qui è uno dei risultati dell'attività di eradicazione locale del Carpobrotus qui è un limonium proprio una delle specie che riesce fuori appunto da questa zona dopo l'eliminazione del Carpobrotus ma la cosa che ha fatto discutere più di tutti è stata l'eradicazione del muflone nonostante questa qui sia una cosa ampiamente supportata da Ispra con il quale appunto c'è un protocollo di gestione e soprattutto e qui c'è la parte sociale che avrete sicuramente visto molte uscite dei media morti i mufloni i mufloni non sono invasivi 1,6 milioni di euro per abbattere i mufloni in realtà era tutto il progetto life eccetera danni irrisori negli ultimi vent'anni qui tra l'altro c'è stato come vedete una diciamo un pronunciamento autorevole Carlo Cottarelli che si è pronunciato sui mufloni dicendo che si spende 1,6 milioni che non è vero perché è tutto il progetto ma insomma per danni dei mufloni 1200 euro in 19 anni allora purtroppo mi dispiace dirlo ma Carlo Cottarelli in questo caso ha fatto la figura che farei io se parlassi di economia insomma parlato di biologia ovviamente i danni all'agricoltura non c'entrano nulla con l'eradicazione del muflone i danni dell'eradicazione del muflone come quella della tartaruga americana e come di tutte quella delle specie aliene attengono i danni che si fanno alla biodiversità quello lì è in più e comunque le critiche che ci sono state fatte per questo progetto sono i mufloni ci stanno bene all'isolo del giglio dove si sono ben ambientati fanno danni irrisori si spendono molti soldi per fare una cosa inutile e comunque non si devono abbattere queste erano un po' le cose allora sul primo punto fanno dei danni irrisori dal punto di vista normativo c'è un decreto ministeriale 2015 e poi la legge e la legge 157 che ci dice che in Sardegna il muflone è considerato specie parautotona e protetta perché parautotona perché in Sardegna è presente da 6.000 anni è stato importato e questo decreto dice che si considerano parautotone le specie introdotte prima del 1500 nel resto d'Italia invece il muflone è una specie cacciabile e il decreto 2015 dice che è da controllare e radicare se ci si riesce soprattutto nelle isole quindi lo dice la legge dal punto di vista scientifico sul fatto che fanno pochi danni c'è questo studio del 2020 che ha esaminato i danni e gli impatti sulla biodiversità che fanno le specie aliene ungulate introdotte e come vedete sono state messe in un ordine di grassifica e guardate un po' chi c'è al primo posto proprio il muflone in un po' di ideale rispetto a queste 27 specie che sono state testate al primo posto questi ricercatori con impatto sulla biodiversità hanno messo il muflone al secondo il dromedario che è stato introdotto in Australia e al terzo il cervo di java che è stato introdotto da altre parti altre specie forse più note sulla biodiversità parlo hanno secondo questo studio un impatto meno importante del muflone la pecora al quinto posto la capra all'ottavo il cervo al dodicesimo il danio al diciassettesimo e il cinghiale al venticinquesimo ovviamente si sta parlando della biodiversità non dei danni ad esempio all'agricoltura il cinghiale schizzerebbe sicuramente in alto molti del mondo scientifico hanno appoggiato il nostro progetto il professor Forco Giusti il professor Marco Bologna il professor Luigi Boitani che sono tutti noti il professor Alessandro Chiarucci presidente della società bosanica italiana Piero Genovesi di Ispra ma soprattutto la cosa più importante Jean-Paul Rodriguez che è il chair della Survival Species Commission della UCN la più importante che riunisce 5.000 studiosi quando si dice si spendono molti soldi per fare una cosa inutile guardate quali sono i costi di alcune eradicazioni fatte a giro per il mondo l'isola di McQuarrie il governo australiano ha speso 16,6 milioni di euro per eradicare il coniglio selvatico il ratto nero il topo domestico oppure all'isola di Awatax lo stato dell'Alaska ne ha spesi 3,6 ma poi ce ne sono anche tanti altri comunque non si devono abbattere allora all'inizio del progetto erano stimati 50-100 mufloni pensate che nei 10 anni precedenti all'isola del Giglio erano stati abbattuti 97 mufloni tra caccia e controllo e pensate che ogni anno in Toscana si possono abbattere 400 mufloni a caccia perché è una specie cacciabile quindi questo è il rapporto tra i potenziali mufloni che potevano essere abbattuti all'isola del Giglio in 3 anni la durata del progetto e quelli che vengono abbattuti sempre in 3 anni in Toscana questo è il rapporto a un certo punto è uscito uno studio che anche questo è molto fatto che diceva questo qui pubblicato su una rivista dove si pubblica a pagamento lo dico solo più informazione voglio dire che diceva che i mufloni di al Giglio hanno un DNA ancestrale perduto cioè dicevano che era un DNA che stava in Sardegna poi in Sardegna si è perso e invece lì sopravviva ancora noi abbiamo chiesto immediatamente un parere all'ISPRA che dobbiamo fare con questo studio e l'ISPRA ci ha risposto che il recente lavoro nella richiesta non introduca alimenti tali da modificare la valutazione già espressa in diverse occasioni circa l'importanza di completare l'eradicazione dei mufloni all'isola del Giglio ma perché questo? perché il muflone dove è protetto è in Sardegna e in Sardegna ha avuto questa evoluzione dal 69 a oggi oltre 6.000 individui presenti in Sardegna e quindi perché uno poteva dire questi mufloni hanno questo patrimonio genetico che in Sardegna è stato perso prendiamoli e riportiamoli in Sardegna ma se diciamo questo DNA non si è trovato in Sardegna delle due luna o non è stato trovato per carenza di ricerca ma magari c'è ancora oppure non c'è più ma se non c'è più vuol dire che non gli serve al muflone sardo perché come vedete l'evoluzione è assolutamente positiva e sta benissimo alla fine a favore dell'eradicazione dell'isola del Giglio del muflone si è schierato ovviamente l'Unione Europea che ci ha finanziato con il progetto LIFE la regione toscana e il comune dell'isola del Giglio la convenzione per la diversità biologica la UCN attraverso le due commissioni competenti rispetto a questa cosa l'ISPRA grandi ricercatori italiani Sandro Lovari Marco Poloni e Giuseppe Menegus che sono quelli che hanno studiato e scritto sul muflone altri grandi ricercatori come i boitani Vessi Fulcheri Folco Giusti e Silvano Toso Francesco Chiarucci presidente della società botanica ve l'ho detto e poi la società italiana di ecologia che l'anno scorso nel congresso di Siena oltre 200 partecipanti ha approvato un documento per portare avanti questa cosa alla fine abbiamo completato l'eradicazione del muflone proprio nei giorni scorsi e negli ultimi due anni sono stati catturati e trasferiti il 60% dei mufloni esterilizzati perché ovviamente è una specie aliena e non si deve diffondere da altre parti e il 40% sono stati abbattuti 35 mufloni dopo aver parlato e ho finito delle leggi dei rapporti eccetera parliamo di un altro approccio che è quello etico rispetto alle specie aliena c'è chi sostiene per la propria etica che per nessun motivo l'uomo debba uccidere animali che non hanno colpe che invece come nel caso dei rati e dei mufloni le colpe sono dell'uomo e questo è assolutamente vero perché ce l'ha portato tra loro sostengono queste persone gli animali possono uccidersi sbranarsi perché quella è la natura ma l'uomo no e volevo soltanto sottolineare che quello che fanno gli animali in natura ovviamente è una cosa assolutamente cruenta e terribile diciamo sugli animali come vedete i lupi che inseguono un cervo il leone su una zebra lupi appunto che sbranano il cervo la iena che salta al collo di un antilope e poi vedete ancora la tigre piuttosto il coccodrillo che prende una cosa o i serpenti come in questo caso un boi un anaconda che soffocano la loro preda e poi se la mangiano una cosa terribile o l'orso polare che preda una foca questa è la natura ma questa non è la natura questo è lo scoiattolo grigio americano che l'uomo ha importato in Italia più grosso e più aggressivo del nostro piccolo scoiattolo europeo quello diciamo che vedete lì e questa non è la natura questo qui è l'uomo che ha importato un animale e che diciamo impatta su un altro animale questo filmato ve lo salto perché è un po' lungo e non ve lo faccio vedere però vi faccio vedere soltanto la fine e questo qui è un ratto che preda un giovane di Berta minore di Berta maggiore scusate e che se lo porta via e questo qui è un praticamente un risultato di una cosa che ha fatto l'uomo ci ha portato il ratto e questo è il risultato allora in conclusione oltre alla scienza e alle leggi la mia etica mi dice di impedire al ratto specie aliena di predare le verte e quindi gli interventi di eradicazione non perché lo dice la scienza lo dicono le leggi ma anche la mia etica e questa è più soggettiva mi dice che si fa bene allevarlo grazie per la vostra attenzione grazie Gian Piero per questo bellissimo intervento che ci fa riflettere su tante cose e mi viene da dire per contestualizzarlo un po' all'interno dell'argomento diciamo del workshop di oggi è che tu hai affrontato il tema delle specie alieni abbiamo visto diciamo come le esperienze che possono essere fatte scusate all'interno di un parco possono tranquillamente essere esportate fuori dal campo cioè è proprio il problema delle specie alieni non riguarda soltanto ovviamente le aree parco non riguarda soltanto le aree protette ma riguarda tutto il territorio e queste esperienze che vengono fatte all'interno di un parco quindi all'interno di un'area protetta diciamo ci servono da base e da esperienza poi per quello che può succedere fuori dall'area protetta ora chiaramente tutto va contestualizzato sarebbe molto ampio il ragionamento ma insomma comunque è proprio il classico esempio di qual è un'esperienza portata all'interno di un parco che può dar frutto per alcuni aspetti anche diciamo al di fuori per fare le stesse cose al di fuori del parco adesso diciamo abbiamo i nostri tre parchi regionali che diciamo ci rappresenteranno delle esperienze fatte all'interno del parco dei parchi Toscana quindi dei parchi regionali e quindi abbiamo Raffaello Puccini delle Alpi Apuane Enrico Giunta della Marimma mentre Riccardo Gatti purtroppo ha avuto un problema e quindi non può essere presente oggi quindi io darei subito la parola a Raffaello se ci sei e se hai una presentazione non so se Tiziana che è già arrivato buongiorno e anche io buongiorno a tutti ho bisogno anche io di una condivisione dello schermo sì lo schermo è condiviso ho un po' di difficoltà non riesco forse ho un problema con il mio computer ho no non ti ho ancora preso a condividere vai è vero è vero prova a fare desktop 1 anzi aspetta prova di condividi ah sì 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 è un calore viate paziente no no tranquillo allora mentre Raffaello prova a fare la sua condividere lo schermo mi viene in mente ah sì prendi anche mi viene in mente una cosa legata anche all'intervento di prima di Giampiero sul tema dell'etica anche questo aspetta aspetta provo un attimo a toglierlo rimetterlo perché mi sa vedi aspetta chi non è scelta la prova chiudi l'audio Raffaello ecco allora dicevo appunto in relazione al tema dell'etica è molto interessante il tema dell'etica lo si può rapportare diciamo a tante questioni no alle specie aliene prima di tutto quindi il rapporto dell'uomo con la natura il rapporto diretto o indiretto dell'uomo della natura con la natura però insomma perché questo è un tema diciamo che se volete non riguarda soltanto l'area protetta in sé ma riguarda poi tutto il territorio e quindi anche questa è un'esperienza di cui far tesoro per se volete per il ragionamento legato alle politiche ambientali a tutto tondo su tutto il territorio noi adesso abbiamo il grosso problema sapete in Italia in tutta Italia della peste suina africana quindi abbiamo la necessità di aumentare il contenimento per esempio dei cinghiali su tutto il territorio proprio per prevenire questo grosso problema che sapete che esiste anche un commissario quindi ecco anche questo è un tema diciamo che se volete riguarda può diciamo coinvolgere un aspetto etico quindi il tema dell'etica è importante un'altra cosa appunto che mi veniva in mente sentendo l'intervento di Gian Piero è legato alla mutevolezza della natura cioè la natura non è una cosa statica la natura è una cosa diciamo che cambia nel tempo quindi mettendo insieme i temi diciamo di cinquini legati al concetto delle politiche ambientali e delle politiche paesaggistiche forse bisognerebbe ripensare in qualche modo oppure bisognerebbe riflettere un pochino di più sul tema delle politiche paesaggistiche cioè di che cos'è il paesaggio e diciamo di quanto possiamo conciliare anche il paesaggio è un qualcosa che a volte viene visto come qualcosa di statico in realtà non è un qualcosa di statico è un qualcosa che si evolve nel tempo in relazione alle evoluzioni legate alla biodiversità legate alla cioè preservare la biodiversità non significa congelare la biodiversità ecco questo insomma sono tutti i temi su quali bisognerebbe ci vorrebbero dei convegni apposta per ognuno di questi temi noi vabbè li disseminiamo li mettiamo e poi come argomento di discussione di riflessione che poi ciascuno ovviamente elabora e riflette secondo le proprie esperienze secondo appunto la propria etica come si diceva prima non so Raffaello a che punto è se ci riesce se no se vuoi Raffaello passiamo passiamo prima passiamo prima a Enrico che noi gli spostiamo il computer e poi riparla dopo ok allora facciamo questo change Enrico sei pronto tu si 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 provo a fare la condivisione vado eh allora Enrico Enrico Giunta non ve lo devo presentare architetto Giunta direttore del parco della Maremma lo vedete? si ma metti a tutto schermo lo vediamo meglio però la presentazione ci sei riuscito vedete tutti bene riuscito a vederlo perfetto adesso benissimo dunque io porto l'esperienza del parco della Maremma quindi sfruttando questo titolo parche al di là del limite e riprendendo un pochino tutto ciò che è stato detto finora soprattutto declinandolo da un punto di vista di pianificazione e programmazione secondo quello che prevedono le norme della regione toscana e gli strumenti che sono stati prima ben illustrati dall'architetto Cinquini e quindi la nostra esperienza pianificatoria poi legata comunque al piano integrato del parco che ha provato proprio a contestualizzarsi non limitandosi in qualche modo a quelli che sono poi i confini fisici e formali previsti per legge ma inquadrando un territorio ben più vasto che abbia una serie di collegamenti di vicinanza proprio da un punto di vista degli aspetti conservazionistici ambientali quindi un sistema ambientale un pochino più complesso e più vasto così come il sistema agricolo e soprattutto di un'agricoltura sostenibile che si declina anche poi un'economia sostenibile più generale e collegata poi anche a un discorso di turismo questa foto che peraltro vedete è proprio un'ampia zona che è collegata tra il parco e la città di Grosseto quindi è una zona poi prevalentemente agricola che è attraversata dal fiume Ombrone e quindi anche degli aspetti delle caratteristiche di forte valenza proprio legata all'asta del fiume Ombrone di tipo conservazionistico e quindi abbiamo poi ipotizzato e magari ve lo storero meglio proprio un'ipotesi di in qualche modo ampliare quella che è proprio effettivamente la superficie del parco soprattutto dell'area protetta riportandola a un rapporto anche più diretto con la città qui faccio solo una sintetica è stato fatto molto nel dettaglio prima quindi la legge 30 ha introdotto il concetto del piano integrato del parco quindi rispetto alla normativa regionale precedente lo stesso strumento urbanistico del parco quindi il piano integrato ha due distinte sezioni quindi ha una parte proprio di pianificazione e una parte di programmazione e comunque riprende e fa riferimento all'articolo 12 della legge 394 e riporta comunque la disciplina statutaria dell'articolo 6 della legge regionale 65 nonché la disciplina proprio dell'articolo 95 della stessa legge e quindi di fatto è un vero e proprio piano operativo che opera sul territorio di propria competenza quindi all'interno dell'area protetta o questo qui è diciamo una visione d'insieme della zonizzazione del nuovo piano integrato del parco che peraltro è stato proprio recentemente adottato quindi è una tavola ufficiale formale a tutti gli effetti da parte del consiglio regionale della Toscana il 6 dicembre è stato adottato dove appunto si vede la parte dell'area protetta con la zonizzazione secondo le zone territoriali omogenee quindi le verde più intense sono le riserve integrali il verde molto chiaro e la parte più vasta sono le riserve generali orientate le aree di protezione sono la parte marroncina diciamo le parti rosa sono le aree di promozione mentre tutta l'altra parte che vedete sono le aree contigue considerate che complessivamente sono 18.000 ettari 9.000 circa sono aree contigua 9.000 area protetta e appunto dove si vede proprio persone in formazione come il parco della Maremma abbia una parte consistente come aree di promozione che sono le zone agricole e sono comunque antropizzate sono quindi presenti aziende agricole che operano e sono molto attive da un punto di vista economico e che diciamo offrono un panorama interessante proprio per una naturale inclinazione alla l'applicazione dell'agricoltura biologica nonché nel proporre l'agriturismo come attività complementare all'agricoltura e quindi diventa un elemento di forte interesse proprio di proposta turistica nel contesto del comune della provincia di Groseto questo è il naturalmente oltre alla parte pianificatoria abbiamo detto una parte programmatoria e all'interno proprio della proposta a questo punto del piano integrato del parco nella parte programmatoria è stato fatto un quadro strategico territoriale complessivo del parco della Maremma e quindi abbiamo provato a inserire quindi proprio nel ragionamento che ha la base di questo workshop e di contestualizzare il parco in un ambito ben più vasto che come vedete va da Monte Argentario alla Laguna d'Orbetella arrivando oltre a Groseto e toccando la costa arrivando verso Passione della Pescalia e in qualche modo vedere l'interazione ora capisco è poco visibile purtroppo poco leggibile ma anche vedete in alto a sinistra i tre spaccati territoriali in qualche modo vogliono far vedere gli aspetti ambientali e conservazionistici che comunque trovano all'interno il parco della Maremma ma hanno dei collegamenti dei corridoi ecologici sicuramente in un'area ben più vasta così come per quanto riguarda la parte agricola e la terza abbiamo cercato poi di collegare proprio gli aspetti più di collegamento turistico e infrastrutturale che sempre vedono centrale il parco da questo proprio sempre per quanto riguarda la parte di programmatica abbiamo provato a impostare proprio un master plan del parco regionale della Maremma dove naturalmente è una tavola rappresentativa che dà proprio un'indicazione di quello che può essere proprio sono gli aspetti salienti per la fruizione e per la valorizzazione turistico-economica quindi sono riportate all'area protetta dell'area antiga sono visualizzabili vedete le praticamente porte di accesso al parco quindi pensare un sistema complessivo di fruibilità controllata e di accesso al territorio del parco e diciamo la la ferrovia e l'aurelia che in qualche modo diventano un elemento che non diciamo cercare di non dividere le parti dell'area protetta e dell'area contigua ma grazie anche alle infrastrutture lente quindi la futura anche ciclopista tirrenica può rappresentare quindi un elemento di collegamento longitudinale di tutta l'area del parco che consente di proporre nuovi sistemi di fruizione sicuramente compatibili con l'area protetta addirittura anche sono state segnate le stazioni minore attualmente in parte chiuse dell'orbetello e quella di rispescia che potrebbero rappresentare un elemento di ulteriore importanza proprio per creare un sistema integrato leggero e sostenibile di mobilità che si basa comunque sulla bicicletta all'interno proprio collegato con l'area protetta allo stesso modo poi è stato identificato un asse di penetrazione prevalente per gli aspetti turistici all'interno del parco della maremma che porta al mare e quindi passando per Spergolaia quindi la sede operativa di ente terre regionali quindi della tenuta di alberesse arrivando fino al mare dove ci sono i vari nodi sia da un punto di vista turistico quindi il centro integrato di servizi ma anche i punti legati comunque alla ricerca scientifica allo scoglietto quindi alle foresterie per i ricercatori e quindi un elemento complesso che non si limita alla sola pianificazione ma da un'interpretazione in qualche modo una visione di fruizione complessiva da un punto di vista anche economico proprio di tutto il territorio dell'area protetta una proposta molto importante quindi che noi facciamo è proprio questa vedete questa è l'area protetta del parco l'area contigua noi facciamo una proposta di ampliamento dell'area protetta quindi seguendo quella che è l'asta del fiumo ombrone e praticamente in questo modo l'area protetta arriva proprio alle porte della città di Grosseto quindi una zona che ha una forte valorizzazione sia da un punto di vista ambientale e conservazionistica proprio perché riprende l'interasto del fiumo ombrone ma è una zona di grande emergenza e importanza anche da un punto di vista agricola arriva addirittura fino alla città dove la zona poi a ridosso della città che è segnata comunque dai due argini di contenimento della cassa di espansione del fiume sono tradizionalmente una zona di parco urbano utilizzato molto dai Grossetane e dalla città proprio per le attività outdoor e di relax corsa bicicletta passeggiate cercando di quantificare un pochino più del dettaglio vedete proprio un particolare della zona di ampliamento dell'area protetta che vedete proprio la vicinanza con la città di Grosseto praticamente viene trasformata una parte di area contigua direttamente in area protetta quindi abbiamo un'estensione di area protetta di 1734 ettari come vi dicevo rispetto ai circa 9000 attuali avremo un incremento del 20% quindi abbiamo effettivamente una notevole ampliamento di quello che è l'area protetta del parco ma che diciamo come proposta è fortemente comunque condivisa naturalmente con la regione ma con gli stecondes e soprattutto con l'amministrazione comunale di Grosseto proprio per l'importanza che questo collegamento rappresenta da un punto di vista di fruizione e di valorizzazione del territorio nel suo complesso quindi vedete l'ipotesi di ampliamento comprende tutte le aree ubicate lungo il fiume ombrone e sono in continuità ambientale paesaggistica geomorfologica geologica idraulica con quelle che sono già comprese nell'area protetta del piano integrato del parco quindi di fatto io riporto una serie di elementi emergenti dando proprio una continuità a tutto un sistema ambientale che comunque è assolutamente omogeneo quindi di fatto questo ampliamento diventa una cerniera funzionale a tutti gli effetti con la città ma con il parco urbano che è configurato nel territorio comunale grossetano che è rappresentato comunque nei redigenti e strumenti di pianificazione fatti proprio dal comune di grosseto quindi di fatto c'è una compenetrazione e una unità di intenti tra una precisa volontà di pianificazione del parco nella valorizzazione e tutela del proprio territorio con le direttive direttamente del comune di grosseto proprio per quell'ambito peraltro il comune di grosseto ha recentemente proprio bandito un concorso di progettazione per realizzare una greenway cioè una una via di accesso verde che di fatto collega proprio il cuore della città quindi la piazza del Duomo all'interno del Mura Medice attraverso un percorso che arriva direttamente all'argine e quindi arriverebbe direttamente non solo nel parco urbano ma all'interno proprio del parco della Maremma un percorso peraltro molto breve e quindi di fatto c'è una non solo avvicinamento ma veramente una compenetrazione veramente forte tra la città stessa e comunque il parco che ad essa si collega effettivamente quindi il parco della Maremma appunto come vi dicevo si avvicina alla città e con lei si interconnette valorizzando un vasto ambito molto utilizzato e apprezzato dai cittadini per lo svago il relax e lo sport e questo vedete quello che vi dicevo questo fa parte dello studio dell'ipotesi di Greenway che è stata fatta dal comune di Grosseto quindi per intendersi qua ci sono le Mura Medice parte la Greenway e praticamente con naturalmente un percorso relativamente breve si può fare addirittura a piedi naturalmente in bicicletta arriva praticamente all'argine del Fiume Ombrone e quindi interrebbe all'interno del parco quindi questa qui teoricamente questa che vedete sullo sfondo sulle Mura Medice è il punto di partenza della Greenway e questo sarebbe il punto di arrivo questa è la salita dell'argine quindi addirittura ci sarebbe un'asse infrastrutturale leggera all'interno della città che comunque collega e interconnette la città con il parco e quindi consente una fruizione diretta portando il parco collegato direttamente con la città e quindi in qualche modo si sposano comunque tutte le attività di tutela e di conservazione con l'attività di fruizione sostenibile che vengono a questo punto condivise dal parco e dalla città di Grosseto e naturalmente convivono con tutte le attività agricole che restano prevalenti e proponderanti per tutta la zona comunque di espansione io vi ho messo qualche foto anche per capire più o meno qual è il contesto ambientale che noi andiamo a lavorare questa è un'azienda agricola importante si chiama Volta di Sacco siamo a ridosso del Femombrone è proprio un paesaggio peraltro molto curato e bello ma che è fortemente vocato all'attività agricola e come tale viene utilizzato e per lo più sono tutte aziende che comunque sono convertite al biologico quindi particolarmente affini e inserite in un contesto di pensiero che spinge sempre il parco proprio a valorizzare i propri prodotti agricoli anche con il marchio di qualità che comunque noi abbiamo che noi abbiamo appunto sempre Grancio Asparino Prati di Bassi qui siamo addirittura al ridosso della parte dell'aurelia quindi con con grancia quindi come vedete sono zone agricole assolutamente tutelate e curate ma che vengono proprio utilizzate con quella finalità con le colture prevalenti olive girasoli e grano proprio nel contesto del territorio a questo punto del parco lo stesso arriverebbe questo il punto finale poi della zona di espansione che rappresenta un attimino anche proprio la storia poi di Grosseto queste sono tutte le opere di bonifica che sono state realizzate più o meno nella metà dell'Ottocento alla Steccaia e questi che vedete nella foto in basso sono proprio gli arcini che vengono proprio utilizzati per le passeggiate per lo sport e la parte dentro è la parte comunque agricola che di fatto sono comunque zone chiaramente a forte rischio idraulico perché siamo nella classe di espansione del Fiume Ombrone ma proprio per questo hanno grande varianza ambientale hanno un'importante varianza economica sotto l'aspetto agricolo ma sono praticamente attaccate al centro abitato e facilmente collegabili proprio con il centro della città per portare avanti questo ragionamento quindi fare questa proposta che dovrà essere poi a questo punto trovare il suo iter procedurale amministrativo per renderla effettivamente operativa noi abbiamo valutato le emergenze ambientali naturalistiche e vegetazionali che comunque caratterizzano questa zona e questo ambito quindi naturalmente come vi dicevo l'asta fluviare del Fiume Ombrone che comprende tutto il corso del Fiume Ombrone e dove già è stato fatto uno studio preventivo al momento della redazione del piano integrale del parco proprio delle specie importanti che si trovano all'interno di questo ambito quindi per dare una connotazione di tipo conservazionistico e perché comunque viene fatto questo tipo di proposta abbiamo potuto vedere le aree agricole di pertenenza dell'Ombrone sono tutte le aree inondabili naturali del Fiume Ombrone quindi sono tutti terreni pianigianti con granulometria della dimensione di argiglie e lini e naturalmente è da preservare nelle condizioni orfologiche attuali quindi comunque sono zone che hanno una loro caratteristica forte anche paesaggistica di riconoscimento e di identificazione del nostro territorio ma che hanno anche una forte valenza di tipo agricolo perché fortemente produttive e utilizzate con questa finalità non solo questa zona è caratterizzata anche da aree di recupero ambientale che comunque noi abbiamo individuato cioè queste sono zone con abbiamo detto prima forte presenza di argilla quindi negli anni 50, 60 e 70 quando erano presente e attive le fornaci per la produzione di laterizi all'interno del nostro territorio con queste cave veniva preso il materiale proprio per la realizzazione dei laterizi cave che poi sono state dismesse negli anni 70 quindi di fatto si sono rinaturalizzate come laghetti quindi la presenza del parco può portare addirittura anche a una progettazione più definita e puntuale di recupero ambientale quindi facendo diventare delle aree che erano state comunque utilizzate con una finalità produttiva rinaturalizzandole e ancora di più proprio rendendole riproponendole a servizio proprio di una fruizione controllata per la stessa città quindi le che tipo di zone comunque noi poi vediamo attraverso l'estensione poi della pianificazione in questa zona che sarà poi l'ampliamento dell'area protetta chiaramente seguendo l'ite e il previsto delle leggi naturalmente ci saranno delle riserve generali orientate a ridosso proprio dell'asta del fiume ombrone dove fortemente saranno più finalizzate alle politiche di tutela e conservazione sotto proprio il profilo ambientale e paesaggistico e quindi danno una normativa specifica da questo punto di vista e le aree di promozione economica e sociale quindi proprio le aree americole quindi nel contesto di quello che abbiamo detto finora cercare di coniugare appunto i due aspetti con appunto gli aspetti della fruizione legati proprio alla vicinanza comunque con la città e quindi dare una specifica disciplina che comunque questa è una semia caratteristica del nostro piano integrato quindi una disciplina che è legata alla conservazione alla trasformazione agli usi delle procedure per comunque determinare un corretto uso e una corretta gestione del territorio questo per finire queste sono foto fatte con riprese fatte con il drone dove complessivamente dall'alto si ha una visione di questo ambito e di queste zone e dove effettivamente come vedete ecco la bellezza di questa zona agricola la cura di questo territorio addirittura la presenza anche di testimonianze storiche dell'ingegneria idraulica o comunque della diciamo dell'utilizzo dal punto di vista agricola fatto del territorio complessivamente ma ecco in qualche modo effettivamente noi abbiamo cercato di uscire non solo dal contesto di quelle che sono i confini del parco contestualizzandole in un sistema ambientale agricolo infrastrutturale più grande ma in accordo comunque con la comunità del parco provare a fare una proposta che in qualche modo consenta di dare una maggiore operatività al parco secondo le sue finalità istituzionali ma che sia assolutamente conforme con quelle che sono le finalità sia della città ma di tutti gli operatori che comunque all'interno del territorio vivono e operano e che quindi possono comunque apprezzare il valore aggiunto proprio di questa proposta che viene fatta io vi avrei finito e vi ringrazio spero di essere stato abbastanza sintetico ma di aver rappresentato quella che era la nostra visione la nostra idea proprio di proposta di ampliamento della rapotetta grazie Enrico sì senz'altro il tuo intervento è stato molto chiaro e diciamo vorrei cogliere solo un aspetto di questa cosa molto interessante e cioè che noi siamo sempre stati abituati al parco della Maremma sapere che il parco della Maremma era un buon esempio di valorizzazione dell'economia locale perché sugli aspetti economici il parco della Maremma ha lavorato moltissimo grazie anche al fatto delle peculiarità dell'agricoltura quindi dell'essere un parco molto agricolo e quindi ha lavorato moltissimo negli anni sulla promozione dell'agricoltura sul territorio eccetera ha lavorato molto sotto il punto di vista anche diciamo della promozione turistica del territorio quindi il parco della Maremma come volano turistico di tutto il territorio adesso si aggiunge un elemento in più che secondo me è molto importante che non dico che chiude il cerchio perché il cerchio non si chiude mai però diciamo l'aspetto secondo me di tipo sociale cioè il parco si presenta come un elemento importante per la qualità della vita dei cittadini e il fatto che il parco riesca ad avere il consenso sul territorio per estendersi fino a allambire la città significa che questo è un elemento che è sentito dai cittadini mettiamoci dentro sicuramente il periodo del covid che ci ha reso tutti più sensibili a questa cosa però effettivamente questo estendersi fino allambire la città che è il posto diciamo dove ci sono più cittadini dove la popolazione è quasi l'antitesi se volete la città è quasi l'antitesi di un parco quindi il fatto che il parco si stenda fino a lì significa che diciamo riesce a valorizzare il suo ruolo in termini sociali in termini di qualità della vita anche l'attenzione chiaramente ai collegamenti del parco con la città quindi alla alla fruizione del parco è una cosa importante quindi diciamo aspetti economici sociali e ambientali cercano di fondersi all'interno di questa di questa cosa vorrei però anche dire che diciamo questo esercizio del del parco della Maremma è un esercizio che non è imposto dall'alto quindi non è una non è una una il frutto della pianificazione cioè la pianificazione è riuscita a cogliere un aspetto un sentire comune un consenso che già si stava formando sul territorio quindi diciamo l'operazione se riusciremo a portarla avanti e ne sono certa è un'operazione che diciamo trova un sustrato un consenso a livello locale molto forte e questo è un ingrediente fondamentale per poter andare avanti quindi perché noi diciamo che siamo tecnici ci riempiamo la bocca della pianificazione e tutte queste cose ma diciamo la pianificazione senza il consenso locale senza la partecipazione diciamo non può funzionare quindi la pianificazione in qualche modo deve dare da stimolo deve dare una rappresentazione ma poi deve trovare a livello locale un consenso in questo in questo caso diciamo siete riusciti forse a sintetizzare tutto questo all'interno di questa di questa visione insomma quindi esperienza sicuramente molto interessante Raffaello ci sei riuscito a a a cambiare ho cambiato il computer ho invertito con la mia collega quindi troviamo se riuscite a autorizzare Isabella Rocchieri alla condivisione e vediamo se si riesce a condividere ok iniziana si si perché il problema è nascito condivisa si si perfetto provate adesso questo così e poi perfetto vedete come stai partendo senza i faccioni giusto ecco si perfetto Raffaello ok va bene buongiorno scusate per l'inconveniente comunque allora io vi propongo un approfondimento una riflessione sulla sul limite il limite inteso proprio come lo intendevano i romani l'innes tra un confine tra una cosa che sta dentro e una cosa che sta fuori ovviamente noi nei nostri i nostri parchi non non costruiamo questo tipo di limiti ma facciamo semplicemente dei segni sulle cartografie ma come sapete come immaginate sono segni che generano tantissima attenzione e anche tantissima tensione spesso e quindi sono limiti sono segni sono perimetri che devono essere assolutamente condivisi le apuane lo sapete che sono un luogo un territorio carico di geodiversità e biodiversità per la posizione geografica per lo sviluppo altitudinale per l'esposizione per tutta una serie di fattori il popolamento animale vegetale su questo territorio è estremamente sviluppato e diversificato e questa elevata biodiversità si è sviluppata in un contesto territoriale di altrettanta elevata geodiversità quindi queste caratteristiche di grande sviluppo della biodiversità e della geodiversità caratterizzano le nostre caratterizzano la nostra area protetta la caratterizza una tal punto che le rocce possiamo dire sintetizzando molto che sono una delle ragioni principali della bellezza e della notorietà e della fortuna delle nostre alpe apuane sia che le si guardi come forme geologiche che arricchiscono il suolo e il sottosuolo delle nostre montagne ma sia anche che le si guardi come materiali lapidei ornamentali estratti da secoli in queste montagne qui vedete sei esempi delle forme più conosciute più caratteristiche delle apuane forme di origine glaciale o di origine erosiva o di origine calzica e poi vedete un'immagine di michelangelo alle cave ovviamente dipinta in anni successivi questa peculiarità relativa alle rocce che costituiscono appunto la notorietà e la fortuna delle apuane ci impone e ci costringe a individuare un limite esterno come in tutte le aree protette un limite esterno che distingue l'area protetta interna dall'area esterna costruita antropizzata trasformata ma poi noi in particolare forse siamo uno dei pochi casi nel panorama nazionale siamo costretti anche a individuare un limite interno è un limite interno che distingue l'area naturale protetta da qualcosa che sta all'interno e che è completamente circondato da area ad altissima naturalità come vedete appunto questa è un'immagine della cava a pocolaccia circondata e immersa in un ambiente di altissima naturalità quindi è un limite interno che è altrettanto importante come quello esterno questo è uno schema semplificato del piano per il parco attualmente vigente in verde vedete l'area protetta e in rosa l'area contigua e vedete appunto come il perimetro il limers romano sia estremamente articolato per diverse ragioni una perché quello generale diciamo che individua globalmente e complessivamente l'area protetta è estremamente articolato perché il nostro è un parco di montagna e quindi è scontato che il limite segue in parte l'orografia e le curve di livello però poi ci sono anche altre caratteristiche e altre peculiarità che ne aumentano l'articolazione la presenza per esempio del monte Palodina che è una montagna che si distacca dalla catena principale per potersi verso la valle del Serchio e quindi se avessimo voluto collegarla completamente con l'area naturale protetta avremmo dovuto ricomprendere dei centri edificati che in questo caso appunto con un processo di condivisione con il sindaco di quei centri si è cercato di escludere quindi è stato necessario costruire questa isola e quindi aumentare l'articolazione del limite ma un'altra articolazione del limite è dovuta appunto alla presenza di queste macchie che vedete quelle blu e quelle rosse le blu come immaginate sono quelle relative alle aree contigue di cava ovvero sono aree che non sono aree a parco ma sono aree in cui si eserge delle attività potenzialmente molto impattanti come le attività estrettive ma non solo quelle il nostro parco è bucato non soltanto per le cave ma anche attualmente per i centri edificati interclusi quelle macchie rosse appunto in cui ci sono alcuni centri che sono completamente circondati interclusi dall'area a parco ma però costituiscono e si comportano come delle aree contigue questi sono due esempi uno quindi la problematica poi non è soltanto relativa all'articolazione formale del limite dell'IMES ma anche alla vicinanza di alcune aree estrattive non soltanto al fatto che sono circondate dall'area naturale protetta ma addirittura in certi casi come nel caso del bacino del Monte Borla lo vedete ci sono due aree estrattive quelle chiare con la riga blu che sono completamente assolutamente molto vicine poche decine di metri ad un'area non solo a una semplice aria a parco ma un'area di riserva integrale con altissimi valori naturalistici al suo interno l'altro caso invece è un caso di un centro edificato intercluso appunto che è completamente il centro di vinca che è completamente circondato da aree o agricole o di riserva orientata ma sempre aree parco che però poi appunto in quel colore celeste vedete le stesse valenze gli stessi valori di un'area contigua l'area contigua rosa che è più in alto qui vedete l'immagine che abbiamo visto del Monte Borla prima l'abbiamo vista in cartografia qui la vediamo in fotografia appunto e vi rendete conto di come le attività le aree in cui c'è la possibilità di avversare attività estrative con altissimi impatti ambientali sono assolutamente contigue vicinissime ad aree ad altissimo pregio ambientale come appunto la riserva integrale del Monte Borla in cui vive questa bellissimo fiordalido oppure emergenze di altro tipo come le capanne del sagro che stanno sul versante a sinistra non si vede il Monte Sagro in questa foto ma insomma intuite il versante che sta salendo a sinistra dove c'è appunto questo bellissimo villaggio pastorale che è altrettanto meritevole di tutela e poi nel mezzo vedete addirittura anche un'area ancora con qualche margine di naturalità che è appunto peraltro un cordone morenico quindi ci rendiamo conto di come anche le aree estrattive al loro interno abbiano delle grandi valenze naturalistiche questa è un'area estrattiva per esempio l'area di tre fiumi abbastanza ampia non so non so se riuscite a riconoscere il limite tratteggiato in rosso che è il limite attuale che individua l'area estrattiva mentre il limite in blu è quello che viene proposto nella nuova pianificazione appunto è un'area in cui ormai sono decine di anni per quanto rimanga ancora estrattiva sono decine di anni in cui non viene esercitata alcuna attività estrattiva e anche per questo motivo appunto il quadro conoscitivo del piano integrato che abbiamo elaborato vi individua delle aree ad altissimo valore naturalistico come vedete quasi tutta l'area estrattiva è identificata con un colore verde scuro o verde più chiaro e men che la metà è un colore giallo che comunque è un colore che identifica un valore naturalistico medio e quindi insomma è importante ricordare come anche le aree estrattive non sono aree bianche in cui si può fare tutto quello che si vuole ma sono aree con importantissimi valori naturalistici peraltro va anche ricordato è una curiosità ma insomma merita di essere ricordata che certe trasformazioni antropiche e in questo caso certe trasformazioni dovute alle attività estrattive come la presenza di questo laghetto che è un laghetto appunto realizzato dopo l'abbandono di un'attività estrattiva ormai decennale in un'area come le Alpi Acuane abbondantemente calzica in cui è difficilissimo trovare delle aree umide appunto certe trasformazioni possono permettere la creazione di ambienti umidi idonei ad accogliere alcune specie particolari in questo caso appunto il laghetto è stato invaso tra virgolette da una colonia di centinaia di tritoni che poi non questo laghetto specifico ma uno accanto c'è stata anche tutta una vicenda di ricorso al Tad da parte della ditta che ricorreva contro un viniego del parco che voleva appunto salvaguardare questa colonia e poi alla fine i tritoni come si legge anche si è letto qualche anno fa nella stampa locale hanno vinto il ricorso al Tad e quindi continuano a vivere e a riprodursi in questi laghi in questo laghetto quindi l'importanza anche di ricordare che all'interno delle aree strattive ci sono anche queste opportunità che vanno comunque segnalate ma prima abbiamo visto un'area in cui estrattiva in cui ormai era decenni che non si esercitava nessuna attività di tipo di escavazione ma anche nelle aree in cui come questa del solco d'equi in cui c'è la presenza lo vedete in alto nell'immagine in alto di cave assolutamente attive peraltro anche con dei volumi estrattivi piuttosto consistenti come la cava cattane lisciata vedete che all'interno del perimetro rosso ci sono appunto delle abbondanti aree consistenti aree ad elevate naturalità in questo caso aree boscate e non solo e è per questo poi che la proposta del piano del piano integrato ha circoscritto molto in maniera molto consistente le aree estrettive laddove effettivamente il territorio è ormai trasformato e ha riguadagnato all'area parco tutte quelle aree che erano comunque caratterizzate da un'alta naturalità queste sono due carte del piano integrato che abbiamo proposto questo è il quadro propositivo è la disciplina statutaria ovviamente è l'indagine di tutto il patrimonio territoriale e la presenza delle invarianti strutturali sia dal punto di vista idrogeomorfologico ecosistemico antropico agroforestale e ovviamente come immaginate non è che si limita a fare queste indagini a individuare queste invarianti soltanto nelle aree naturali ma ovviamente anche va oltre e va all'interno delle aree estrettive e ci testimonia che anche all'interno di queste aree estrettive ci sono tantissimi invarianti strutturali da tutelare e da conservare questo è invece il quadro propositivo della disciplina operativa quella la carta in cui si fa l'articolazione dell'area protetta nelle diverse zone a diverso grado di protezione e anche qui appunto si è cercato di superare l'eccessiva articolazione del perimetro del limite del limite dell'area parco limite che come ripeto è sia verso l'esterno che verso l'interno ovviamente il parco è ancora un parco di montagna e quindi l'andamento articolato del perimetro globale esterno è quello dovuto alla presenza di una realtà orografica e altimetrica che è quella che è quella delle apuane però sono state eliminate alcune delle aree estrattive e soprattutto sono stati eliminati i buchi dei centri edificati interclusi ora poi vedremo come abbiamo fatto ad eliminarli quindi le aree estrattive sulla base del quadro conoscitivo sulla base del quadro valutativo nonché sulla base anche della struttura territoriale della presenza delle aree in varianti strutturali sono state ridotte di circa sei e quindi appunto abbiamo eliminato e sono state riguadagnate anche se sarà un riguadagnare in fasi successive non immediate ma insomma sono state verrando riguadagnate all'area naturale protetta ma uno degli aspetti ancora più interessanti è quella di aver riguadagnato i centri edificati interclusi Isola Santa Fornavolasco piccoli centri del comune di Pescaglia soprattutto Vinca Camposcecina e Resceto sono finalmente rientrati all'interno dell'area parco è stata un'operazione non facile ma è stata concertata e condivisa con i sindaci di questi di questi piccoli centri che finalmente hanno capito che non avendo non prevedendo il nuovo piano ulteriori normative aggiuntive rispetto a quelle dei piani urbanistici comunali ma dando invece al contrario delle opportunità di accedere a finanziamenti da parte delle comunità locali hanno accettato appunto finalmente cosa che prima fino ad ora non era stata possibile hanno accettato di fare entrare questi centri questi piccoli centri all'interno dell'area parco ovviamente sono stati inseriti all'interno dell'area di promozione la cosiddetta area D che poi vedremo è stata articolata in tre sottozone nella D a carattere insediativo nell'area D a carattere fruitivo e nell'area D a carattere estrattivo vedremo poi nello specifico di che cosa si tratta questo è il caso emblematico di Vinca appunto in cui finalmente il centro edificato e anche le aree con termine al centro edificato che sono caratterizzate da terrazzamenti da coltivazioni agricole di pregio da aree boscate e da aree da castagnetti da frutto e quant'altro gestiti dai residenti e portati avanti dai residenti stessi del del paese appunto finalmente sono e rientrano all'interno dell'area parco e non poteva essere diversamente in quanto peraltro insieme al centro edificato queste coltivazioni agricole con termini ai centri costituiscono una parte importantissima caratterizzante del paesaggio delle Alpi Aguane su Vica peraltro è interessante ricordare l'evoluzione della posizione di questo centro edificato rispetto alla perimetrazione del parco dal 97 ad oggi qui vedete le tre fasi nel 97 con la legge regionale 65 del 97 che istituiva l'ente parco e istituiva anche e perimetrava per la seconda volta l'area protetta c'era proprio questo tentativo di creare un corridoio lo vedete il parco è quello ovviamente l'area parca è quella verde l'area bianca invece è l'area contigua e era stato disegnato un corridoio che andava a prendere il centro edificato e se lo portava in area contigua la situazione migliorata era migliorata con il piano vigente attuale che era stato approvato nel 2017 in quanto ovviamente veniva riconosciuto che l'area intorno al centro edificato l'area intorno al vinca era comunque da proteggere da inserire nell'area parco ma vinca appunto anche per le resistenze delle comunità locali e dei sindaci veniva comunque identificata come una vera e propria area contigua finalmente con la proposta attuale appunto come abbiamo visto rientra a tutti gli effetti all'interno dell'area parco anche se in un'area la zona D con minori diciamo norme di tutela questo è un altro caso un po' diverso da vinca in quanto vinca è un centro grosso in cui vivono anche centinaia di persone qui siamo in piccoli agglomerati del comune di Pescaglia a Buscine e Mezzane lo vedete dalla foto era sono piccoli piccoli gruppi di case che però insomma hanno nella loro vicinanza queste aree aperte ancora in cui si esercita un'agricoltura legata appunto ai residenti e quindi c'è un è importante valorizzare questo tipo di di aree aperte che come vedete dalla foto aerea si vede chiarissimamente stanno per essere rischiano di essere inglobate nell'indistinto accrescimento del bosco quindi ecco è un'operazione in cui si cerca di evitare di contrastare la banalizzazione del mosaico ambientale che sapete il mosaico ambientale più è variegato e più garantisce la biodiversità ma questo mosaico e la diversificazione del mosaico è sempre costantemente diciamo messa in discussione dall'avanzamento indiscriminato del bosco qui ancora ci sono altri esempi della zona di di promozione con altre caratteristiche siamo a Camposcecina è un'area diciamo fortemente abbastanza trasformata per quanto vicina al Monte Borla e per quanto attualmente inserita in un'area di riserva orientata però un'area utilizzata anche durante i fine settimana da diverse quantità di persone e quindi forse il fatto di essere inserita all'interno di un'area di riserva integrale li stava un po' stretta perché non consentiva attività che ormai si fanno comunemente che non sono attività impattanti ma sono attività ricreative effluitive quindi il fatto di averla inserita in un'area di carattere effluitivo appunto ci consente di tenerla comunque all'interno dell'area pacco ma di avere norme un pochino più blande di conservazione e di tutela lo stesso vale per alcune aree con termini alle aree estrattive qui vedete il caso di orto di donna in cui c'è anche qui una riduzione dell'area estrattiva l'area estrattiva che viene proposta è quella colorata in giallo ocra sono due in realtà all'interno di queste due aree che continuano ad essere estrattive per quanto ridotte rispetto alla superficie attuale rimane un'area che non ha interesse dal punto di vista estrattivo e che viene quindi identificata come un'area di promozione a carattere estrattivo cioè un'area dedicata ad impianti e a servizi a servizio appunto dell'area estrattiva ma un'area che a tutti gli effetti è un'area parco e quindi viene riconsegnata all'interno dell'area parco bene io ah ecco mi dimenticavo di ricordare che questa operazione di portare all'interno dell'area parco i centri edificati interclusi comporta che il parco finalmente diventerà un parco abitato attualmente i residenti all'interno del parco sono poche centinaia con l'operazione di individuare i centri edificati interclusi come area di di promozione a carattere insediativo si arriverà sicuramente a qualche migliaio quindi finalmente un parco abitato in sostanza per concludere la nuova proposta aumenta del 10% l'area protetta e non è poco questo ampliare questo limite del 10% da 19.900 a 21.900 ettari è un obiettivo che secondo noi è un buon obiettivo aumenta tantissimo la presenza di aree di promozione che prima erano quasi inesistenti erano circa non arrivavano a 8 ettari ora arrivano quasi a 400 ettari e soprattutto riduce del 56% le aree contigue di cava riconsegnando quella parte appunto che viene tolta dalle aree contigue di cava viene riconsegnata finalmente all'area parva da 1660 ettari vengono ridotte a 727 ettari io credo ho finito e quindi vi ringrazio per l'attenzione grazie Raffaello è interessante anche la vostra esperienza sul tema del limite del confine diciamo noi siamo partiti con questo nostro workshop ragionando sull'importanza di superare i limiti cioè il concetto di limite non superare superare il concetto di limite per la necessità che abbiamo di trovare un rapporto tra l'area protetta e il territorio più ampio rispetto a quello di un confine che in qualche modo sancisca qualcosa al di qua e qualcosa al di là del confine e diciamo questo lavoro voi avete provato a farlo anche ragionando sul limite perché a un certo punto siamo entrati in merito a cosa volesse dire quella linea di separazione per esempio tra l'area parco e l'area contigua di Cava e poi forse ragionando su questo limite abbiamo scoperto che non esiste tanto un mondo di qua e un mondo di là ma esiste un qualcosa che in qualche modo deve trovare correlazione tra questi due mondi quindi queste riflessioni questo esercizio che voi avete fatto e che state continuando a fare perché ricordo che appunto noi adesso Raffaello vi ha presentato una proposta che il parco ha fatto alla regione e la regione e la giunta ha fatto su ha presentato il consiglio al consiglio ancora non è stata discursa in consiglio per l'adozione quindi avrà la sua adozione e poi dopo ci sarà tutta la fase di osservazioni e quindi diciamo il risultato diciamo lo strumento poi che sarà vigente ancora è da vedere quale sarà questa è la base di partenza comunque questa riflessione è molto interessante ripeto perché diciamo dobbiamo veramente riflettere su questo tema cioè i confini non sono muri invalicabili i confini di quei segni rossi che noi mettiamo sulla carta per definire la zona parco la zona riserva e la zona fuori della riserva non devono essere non sono muri invalicabili che segnano due mondi che sono completamente separati è questo che diciamo credo che dovremo che dovremo superare va bene allora a questo punto io direi non credo che ci sia Riccardo vero perché io ora non ho visto tutti i partecipanti ma Riccardo Gabbi aveva anticipato che non non sarebbe potuto intervenire quindi non so se so che già è arrivato il presidente Bani quindi non so se il presidente Bani vuole anticipare qualcosa oppure se passiamo magari alla alla fase diciamo di discussione aperta interventi e poi quindi magari il presidente interviene dopo nella fase di conclusione non so se c'è il presidente Bani va bene allora io direi che quindi possiamo passare alla diciamo alla al momento degli interventi direi sono le 11.50 ci possiamo dare una mezz'oretta di tempo per per diciamo ecco vedo nella chat presidente Bani presente? Sì è presente ecco ma mi chiedevo se preferisce fare un intervento ora o seppure aspetta le conclusioni come era previsto dal programma visto che il direttore non c'è allora intanto qualche piccola qualche piccola come dire ordine per eventuali interventi vi prego allora prego chi vuole fare una domanda un intervento eccetera ovviamente si tratta di essere molto sintetico per limitare i tempi e per dare spazio chiaramente a tutti coloro che vogliono intervenire poi prego ovviamente di utilizzare la non so se c'è l'alzamano qua sì probabilmente c'è questo sistema l'alzamano quindi di utilizzare l'alzamano in modo che possiamo vedere diciamo chi chiede di intervenire e dargli la parola in modo da non sovrapporsi abbiate la pazienza se diciamo noi vi daremo la parola non proprio in ordine perché non è facile vedere tutto in sé tutta la lista dei siamo 53 partecipanti quindi non siamo pochi per cui non è facile tutta la lista e quindi direi di organizzarci organizzarci così una mezz'oretta di tempo prima delle conclusioni allora prego se qualcuno vuole intervenire alzi la mano usi il sistema di alzata di mano e Tiziana aiutami magari a vedere se ci sono problemi temi effettivamente sono abbastanza complessi perché quindi non è non è facile riuscire riuscire a a me era piaciuto un riferimento che era stato fatto all'inizio da Cinquini che aveva ripreso a sua volta qualcuno che insomma non mi ricordo era bene chi che faceva questo binomio tra conservazione e propensione all'innovazione è molto bello come concetto Roberto Gambino esatto grazie Fabrizio è molto bello come concetto perché questa cosa della conservazione va va insomma va 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 ecco questa visione della conservazione come un qualcosa eccolo allora da Diego Bianchini a tutti visto che si parla dei confini dei parchi voglio sapere le impressioni del parco di San Rossore per aiuto ma scusi la può 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 dirci la voce non so aspetti io ho visto solo un pezzo della chat te lo leggo io vai visto che si parla di confini dei parchi volevo sapere le impressioni del parco San Rossore per quanto riguarda la variante di piano strutturale del comune di Viareggio con la realizzazione della pista per imbarcazioni e le osservazioni della regione allora credo che questo sia un tema troppo specifico per poter essere discusso a questo a questo a questo convegno cioè qui si tratta di uno strumento di pianificazione di un comune in relazione allo strumento diciamo allo strumento di pianificazione attuale del parco diciamo ci sono ancora degli istruttori in corso quindi penso che non insomma sia difficile poterne parlare in maniera oggettiva e anche in maniera insomma estremamente competente in questo consesso questo ve lo dico perché insomma è inutile è inutile quindi direi di andare avanti beh allora questo discorso dicevo questa questione legata all'innovazione e quindi alla conservazione e innovazione che sono due termini che sembrano completamente distanti tra il loro quindi quasi in antitesi in realtà la conservazione quando si ragiona in termini di conservazione della natura si conserva qualcosa che ha personatura dinamico quindi non è banale allora io direi a questo punto se se tutti siete d'accordo visto che non ci sono richieste di intervento specifiche direi che possiamo passare alle conclusioni dando la parola ai tre presidenti dei tre parchi regionali e non so ora appunto io abbiamo Andrea Tagliasacchi delle Alpe Tuane Simone Rusci del Parco della Manerma e Lorenzo Bani di Milianino San Rossore se diciamo in qualche modo vogliamo rispettare quest'ordine di intervento oppure potete decidere chiaramente voi come volete io direi intanto se si prego con Odonella consolati dal Parco delle Alpe Acuane il presidente Tagliasacchi si sta trasferendo da Lucca a Castelnuovo e quindi diciamo preferisce fare il suo intervento tra un pochino perfetto benissimo aveva anche il resto lì prego allora vedo scusate ma sono un po' in difficoltà vedo il presidente Bani eccolo aspettiamo che si che il collegamento si definisca non so se mi senti presidente piano piano ti vediamo ecco ecco ora non lo vediamo più qualcuno mi può dire dal Parco di San Rossore se ci sono problemi se possiamo aspettare tranquillamente se ci sono problemi se diciamo magari partiamo con allora l'intervento del presidente Rusci qualcuno mi può dire qualcosa dal Parco di San Rossore che era era collegata prima una collega del Parco di San Rossore credo non so se ecco ecco forse qualcosa forse stanno perfezionando il collegamento noi comunque non 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 ti sentiamo eh si hanno scritto che hanno difficoltà di collegamento ok allora io direi a questo punto magari mentre loro perfezionano il collegamento tanto per non far aspettare i nostri cinquanta partecipanti di ehm e in attesa di Andrea che Andrea Taliasacchi arrivi nella sua postazione nuova postazione darei la parola al presidente Rusci eh per le sue conclusioni di questa mattinata grazie mi vedete prego Bani di magari di cercare di perfezionare il collegamento in modo che così eh subito a ruota interviene lui prego Simone grazie mi vedete mi sentite tutto perfettamente grazie ringrazio tutti ringrazio eh l'architetto Cinquini ringrazio il presidente Sanmuri e i direttori per gli interventi che mi sembrano veramente eh molto interessanti molto stimolanti e anche mh sul come dire sui temi caldi che quotidianamente ehm affrontiamo cioè affronta chi gestisce una un'area protetta e vabbè sono tanti gli spunti ho preso un sacco di appunti e cercherò invece di essere molto sintetico ehm una prima cosa abbiamo parlato di di ampliamento perché e mi sembra che è un tema abbastanza ricorrente noi nel Parco della Maremma insomma il direttore Giunta l'ha spiegato abbastanza bene quanto quanto ci stiamo lavorando con quale convinzione e con quale energia ehm mi preme sottolineare che non è tanto una sfida non è un un gioco dei numeri chi è più grande chi si amplia di più e nemmeno un gioco di eh risposta a delle come dire a delle indicazioni che che pure ci vengono dall'Europa penso che da un punto di vista politico al di là degli aspetti di natura conservazionistica che insomma sono sono evidenti ma da un punto di vista politico che il ruolo che che siamo chiamati noi presidenti a tenere penso sia molto importante perché segnala l'attualità dei dei parchi e l'attualità delle aree protette cioè le aree protette non non sono l'esito di una stagione che si è chiusa non sono l'esito di una stagione felice fortunata negli anni negli anni settanta nel caso del parco della Maremma un pochino dopo degli altri ma continuano ad essere devono continuare ad essere un tema forte di discussione non solo eh non sono delle 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 aree acquisite che rimangono così in alcuni casi insomma sacrificando le 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 iniziative di qualcuno subendo delle delle imposizioni ma invece sono sono motori importanti che vanno che vanno aumentati vanno incrementati non solo nella loro dimensione ma forse vanno anche incrementati nella loro numerosità mh penso che oggi il ruolo dei parchi deve giocarsi su due su su sui limiti eh in non solo sui limiti fisici ma anche sui limiti della normativa cioè dovremo secondo me dobbiamo fare un grande lavoro sull'incremento delle riserve integrali perché sono la la prima mission dei parchi quindi quello quello di sottrarre delle aree totalmente alla presenza all'interferenza dell'uomo che ormai è è diffusa in tutto in tutto il globo è un ruolo questo importante non dobbiamo avere paura di farlo è un ruolo molto scomodo spesso ci scontriamo con le realtà locali ma è la la prima missione dei parchi quindi lavorare molto sulle riserve sulle riserve integrali dall'altro dall'altra parte andare all'altro limite della normativa cioè le aree di promozione quello che sta facendo il parco della Maremma estenderle perché le aree di promozione sono il primo elemento di relazione quindi è il primo elemento che completa come dire l'attività sottrattiva dei parchi all'attività umana ma è è l'attività di di relazione di relazione con le attività umane in particolare con gli ambiti urbani e le aree di promozione sono tanto più importanti per quello lo ricordava Cinquini sulla protezione della biodiversità agraria oggi abbiamo non solo delle importanti perdite di contesti naturali di di ecosistemi naturali ammesso che che esistano ecosistemi naturali ormai ma abbiamo la perdita di grandi valori ecologici ecosistemici di habitat e di paesaggio sul fronte agricolo cioè su quelle aree ad esempio sulle aree di pianura che sono quelle più soggette anche all'industrializzazione alla semplificazione di paesaggio e che oggi sono a rischio come lo erano a rischio le aree boscate negli anni 50 e 60 o negli anni 30 quando è stato messo a punto il vincolo idrogeologico ecco oggi siamo chiamati a tutelare delle aree che intuitivamente non pensiamo debbano essere tutelate e queste sono ad esempio le grandi aree agricole con delle sistemazioni con sistemazioni storiche ma anche con relazioni ecologiche importantissime tra fauna e attività agricola che rischiano di perdersi nella semplificazione dell'industrializzazione nei cambiamenti culturali che a volte appunto sono molto sono molto invasivi quindi ecco questo lavoro ai margini della normativa io lo trovo molto importante e cruciale e mi fa piacere che sia emerso anche in tutti gli interventi dall'altro lato forse questo lo abbiamo sottolineato un pochino con meno enfasi ma penso sia importante tu Gilda lo hai detto lo hai detto più volte in diversi contesti rafforzare la rete delle aree protette quindi rafforzare il ruolo e la sinergia tra parchi nazionali parchi regionali e soprattutto con la rete fitta delle riserve cioè le riserve regionali secondo me devono entrare a far parte in maniera molto più sinergica molto più forte della rete di tutela quindi non pensiamo solo ai parchi ma penso ecco che le riserve e la federazione chiamiamola così tra riserve e parchi sia un elemento molto importante chiudo dicendo così della felice esperienza del parco della Maremma siamo davvero fortunati sull'ampliamento del parco perché è stata un'esperienza anche finora di coesione sociale lo ricordavi tu Gilda perché effettivamente i primi sponsor di questa iniziativa sono stati i proprietari delle aree proprietari delle aree che hanno detto assolutamente sì noi non solo non ci opponiamo ma vogliamo siamo fermamente convinti che le nostre le nostre aziende la nostra capacità produttiva anche la nostra capacità economica possa migliorare stando dentro al parco della Maremma e questo devo dire insomma che mi conforta anche se ovviamente non è merito mio ma penso che conforti chi prima di me ha lavorato qui c'è Giampiero ma penso a Lucia Venturi penso ai presidenti precedenti perché è veramente la testimonianza non solo di un conflitto ormai lontanissimo ma di una comprensione forte del ruolo dei parchi quindi penso davvero lo restituisco a chi ha lavorato prima di me ma devo dire che con grande soddisfazione sto beneficiando di un lavoro importante che vede la comunità del parco quindi i soggetti istituzionali ma anche proprio le persone i proprietari aspettano estremamente coesi diciamo che se si può fare subito posso dire due cose questo il presidente Agliasaki presidente Agliasaki bene ci fa piacere che sei collegato è perfetto va bene quindi approfitto dell'interruzione incidentale insomma per non farla tanto lunga spero ecco che queste poche riflessioni insomma siano condivise con gli altri presidenti che saluto saluto tutti e ringrazio di nuovo tutti i partecipanti grazie grazie a te presidente Rusci diciamo vedo Tagliasaki che intanto è riuscito a collegarsi non so se Bani ha risolto i problemi di collegamento no quindi allora io intanto darei la parola a Tagliasaki presidente ormai non più neo è già qualche insomma insomma allora io ho seguito purtroppo non in maniera continuativa perché avevo una serie di problemi di spostamento e organizzativi quindi vi chiedo scusa ho seguito naturalmente alcune cose quindi il mio prendetelo perché appunto sono l'ultimo arrivato quindi prendetelo come un saluto poco più che un saluto quindi devo dire che comunque ho trovato molto interessante il modo in cui è stata preparata questo incontro gli ho vari approfondimenti quindi anche molto utili da diversi punti di vista io voglio solo sostanzialmente inquadrare il ragionamento che ho sentito che avete fatto diciamo nel in quello che è il mio approccio ecco di anche alla luce dell'esperienza amministrativa che mi porto alle spalle e soprattutto nell'ultimo periodo anche come coordinatore dei comuni delle aree interne dell'unione dei comuni della Garfagnano io penso questo già da alcune cose che sentivo stamattina questa cosa emersa cioè io penso che noi bisogna collocare la riflessione la contestualizzazione del ruolo strategico dei parchi anche in Toscana nel contesto che stiamo vivendo il contesto che stiamo vivendo qualcuno lo diceva anche questa mattina è la fase post covid la fase post covid ha se ce ne fosse stato bisogno in maniera molto più drammatica posto il tema del limite del del rapporto uomo natura la riposto in maniera drammatica e anche della vulnerabilità della fragilità dell'essere umano nel contesto della vita e questo è un punto non di poco conto col covid i temi fondamentali come la qualità ambientale lo spazio il tempo il modo di vivere hanno fatto nuovamente sono entrati al centro della vita al centro della vita delle persone il contesto internazionale rispetto ai temi drammatici che vivono gli amministratori e i cittadini rispetto ai cambiamenti climatici alle varie emergenze che stiamo vivendo e il contesto internazionale è anche legato ai problemi diciamo energetici penso soprattutto ai conflitti internazionali ma penso anche a a una a una crisi della mitizzazione come l'abbiamo vissuta per tanti anni della della globalizzazione ecco queste questioni pongono la definizione e l'esigenza di uno scatto e di un'innovazione di cultura politica amministrativa perché perché cambia il paradigma del rapporto fra città e campagna fra città e aree interne voi capite che questa centralità nuova delle aree interne delle aree di montagna eh che di per sé hanno nel loro dna nel loro vissuto anche alle grazie alle scelte che sono state fatte dalla stessa politica dei parchi ma non solo hanno nel loro dna il nucleo della nuova idea di sviluppo perché rispetto a queste questioni a questo contesto a questa oggettività nuova è chiaro che c'è bisogno di di ridefinire una nuova idea di sviluppo ecco perché le aree interne e in questo caso il sistema dei parchi toscani può svolgere una nuova centralità anche in termini di contenuti nuovi e di innovazione perché è evidente che noi abbiamo bisogno di un confronto forte con il mondo universitario e con i centri di competenza perché definire oggi partendo dalle cose che dicevo una nuova idea di sviluppo vuol dire anche misurarsi con la grande innovazione che abbiamo di fronte dal punto di vista della comunicazione dal punto di vista tecnologico fino ad arrivare all'intelligenza artificiale quindi il tema vero è come noi decliniamo una nuova progettualità che metta al centro le cose che qui in parte sono state anche detto da questo punto di vista io ritengo che il convegno coglie un'intuizione che per me è molto positiva e cioè il rapporto fra i parchi la centralità di questi territori nasce anche da una massa critica cioè i parchi devono fare massa critica perché io lo dico sempre parco nazionale dell'Appennino parco regionale parco regionale delle Alpi Apuane parco di Miglialino San Rossore gli altri parchi della Toscana e se vogliamo allargare il ragionamento il parco di Miglialino e il parco delle Cinque Terre coinvolgono tre regioni dell'Italia e coinvolgono la spina dorsale penso all'Appennino ma anche penso alle Abuane di il cuore insomma del pulsante del nostro paese il tema quindi di una progettualità internazionale di una progettualità europea che faccia massa critica rispetto al contesto attuale che stiamo vivendo diventa veramente fondamentale e importante quindi insieme alla definizione alla regolazione e alla gestione dei singoli parchi noi dobbiamo provare a capire come rilanciamo questa questa forza perché oggi oggi è una forza nuova oggettivamente il contesto che stiamo vivendo ci dà veramente la possibilità di aprire un ragionamento programmatico ma anche di contrattazione amministrativa politica nuova rispetto a quelle che tradizionalmente sono considerate le aree forti o gli assi di uno sviluppo tradizionale che comunque è in crisi questa era la considerazione che vi volevo consegnare grazie grazie presidente Dalia Sacchi e adesso non so se il presidente Bani mi sentite perfetto perfetto no un miracolo è stato un miracolo è stato un miracolo perché qui al parco ci sono problemi di connessione problemi di collegamenti infatti siamo riusciti alla fine di su questa cosa no Brigida io a te a te la parola ecco no intanto mi scuso mi scuso con tutti i partecipanti per non solo per queste difficoltà di collegamento ma anche per il fatto che Riccardo ha avuto dei problemi familiari per cui non è potuto partecipare a questo incontro e devo dire che quindi manca una parte importante per cui io ritengo che sia anche compito mio come presidente del parco di San Rossone cercare di fare in modo di organizzare una cosa agita anche successiva in cui coinvolgere un po' tutti i soggetti che sono presenti a questo convegno anche perché è stato un po' un convegno fatto in una certa modo ora non voglio entrare nel merito però deve essere un convegno dei direttori di natura su valutazione di natura tecnica come erano stati fatti precedentemente qui siamo andati su questioni molto più importanti sulla pianificazione sulla presentazione dei piani integrati su cui secondo me ci deve essere un maggiore coinvolgimento tra i presidenti quindi questo sarà in futuro uno degli obiettivi che ci dobbiamo porre perché in questa occasione era un'occasione importante ma la sotteremo in un secondo tempo ecco quindi non voglio entrare nel merito di questa cosa io devo dire che anche per quanto riguarda l'eventuale presentazione come ho visto anche degli altri parchi del piano integrato noi siamo ancora nella definizione Gilda lo sa della coerenza delle procedure e tutto il resto siamo ormai arrivati alla fine quindi ancora non è andato in giunta per cui ci sembrava in opportuno anche in questa sera presentarlo e quindi abbiamo attendiamo di che i passaggi siano definiti definiti e compiuti quindi ecco io penso che ho sentito molti interventi specialmente anche quello dei studenti delle altre delle acuane della Maremma che secondo me è necessario sempre più mettersi in rete fra di noi in maniera più stretta fare massa critica ma anche allo stesso punto creare elementi di confronto continui su tutta una serie di problematiche che sono similari omogenei fra tutti i parchi quindi io mi auguro che si possa creare una piccola gabina di regia usiamo questo termine fra i presidenti dei parchi in modo che si possa ragionare insieme su tutta una serie di aspetti visto che poi alla fine tutti e tre piani integrati andranno all'adozione da parte del consiglio regionale quindi c'è necessità anche di verificare fra di noi tutta una serie di problemi quindi io non posso altro che dire condividere l'intervento di Simone e l'intervento di Andrea e quindi ecco da questo punto di vista avremo il tempo anche come parte di Mignarino San Rossore di poter presentare nel nostro piano e fare un discorso tutti insieme quindi aggiornare anche alla presenza del parco della San Rossore nella sua completezza un prossimo appuntamento che concorreremo insieme in modo ecco da avere anche questo pezzo un importante del parco Mignarino San Rossore nella valutazione nella discussione sulla pianificazione grazie grazie Lorenzo direi che molto importante l'iniziativa che tu proponi perché l'obiettivo diciamo del coordinamento sempre tra i parchi è un obiettivo che ci portiamo dietro noi come tecnici quindi parlo la mia struttura come la struttura regionale che ha rapporti con i parchi regionali e i tre direttori noi ci riportiamo dietro da da tanto tempo quindi il fatto che questa cosa sia presa in mano dai presidenti per me è molto importante vuol dire che viene raccolto e viene diciamo un soggetto politico che in qualche modo deve dare gli indirizzi si fa portatore di queste esigenze e questa è una cosa diciamo importante quindi benissimo secondo me si va proprio nella direzione in cui abbiamo sempre lavorato questi anni questi contegni nascono mai da diversi anni e servono non tanto diciamo per affrontare questioni a carattere locale ovviamente che hanno dei risvolti politici importanti ma servono da stimolo per noi tra noi e da stimolo e anche diciamo così in qualche modo per coinvolgere il pubblico i cittadini coloro che sono interessati a questi temi per coinvolgere su alcune problematiche e farli riflettere su alcune problematiche perché tutte le cose le cose la gestione amministrativa è molto complicata voi come presidenti lo sapete ovviamente molto meglio di noi quindi diciamo il discorso di riflettere su alcuni temi serve per poi riuscire a prendere riuscire alla parte politica a prendere delle decisioni in maniera diciamo consapevole quindi questi sono l'obiettivo di questi di questi incontri che noi abbiamo fatto e organizzato ormai da diversi anni è questo quindi bene bellissimo ci fa molto piacere almeno insomma a me ma credo di esprimere la parola anche da parte dei tre direttori che diciamo questa cosa sia raccolta e presa e presa diciamo un carico dalla parte politica in maniera attiva quindi niente buon lavoro a tutti noi io direi concluderei così e buon lavoro a tutti noi grazie a tutti quelli che sono intervenuti e che hanno dato il loro contributo non li sto a ricordare tutti e alla prossima oppure prima oppure prima benissimo bene grazie 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 a tutti scusate ancora ciao saluti a tutti ciao ciao saluti a tutti volevo bloccare lo streaming esatto stavo chiedendo se devo fare qualcosa no io ho interrotto la registrazione